buonasera buonasera ciao a tutti buonasera ben ritrovati a caindors buonasera aspettiamo qualche altro secondo che arriviate un po tutti grazie ciao che allora stasera già sapete di che cosa si parla è un caso che conoscete forse anche benissimo noi lo riassumerò a me ovviamente perché è stato un triste anniversario quello di ieri perché non è anniversario di quelli da festeggiare ma è una data che ci è rimasta impressa che è quella del ritrovamento di iara e che è un caso che ha messo molto 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 al cuore e a me personalmente quello che mi ha dato poi la spinta vi racconto quest'aneddoto personale nell'intraprendere con totale convinzione e rendere la mia passione una reale professione quindi proprio per rendere giustizia tutte le vittime come iara e quindi un caso di cui parlo sempre con diciamo molta passione per usare un termine riduttivo rispetto a tutti i sentimenti e le battaglie di questi anni per portare poi a galla quella che è la verità perché saprete benissimo che questo caso ha diviso fondamentalmente l'italia più di altri casi tra innocenti e colpevolisti ed altre sottocategorie che anche avranno la loro parte questa sera spero che siano anche ben presenti quindi vi racconteremo anche un po di aneddoti che sono relativi a questa vicenda perché è una vicenda che si è raccontata su più fronti quindi qui questa volta veramente ci sarà da fare una bella distinzione tra la realtà processuale che andremo a sviscerare nel dettaglio e quella mediatica perché uno di quei casi in cui vengono generati tantissimi dubbi ma vi assicuriamo che nel tribunale in aula questi dubbi non ci sono stati non ci sono state consulenze a smontare questi dubbi e quindi tutte le chiacchiere che sono andate intorno non sono stato altro che diciamo un scenario televisivo ok e lo dico proprio nero bianco perché anche nella sentenza nelle motivazioni di cassazione c'è scritto appunto tutto quanto in chiaro che cosa è stato fatto durante l'indagine come è andato avanti il dibattimento per gli anni quindi quali sono gli elementi vi invito come sempre a fare qualche tipo di domanda vedo già una domanda siamo qui per quello intanto volevo dare aspetta io io invece volevo dare il benvenuto a stellina nuova che ci ha detto che è appena arrivata a parte il ben trovato a tutti quanti i soliti nostri diciamo affezionatissimi e niente sì siamo qui per rispondere a tutte le domande di tipo tecnico processuale e chi più ne ha più ne metta perché immagino che anche quelli fortemente convinti della colpevolezza di bossetti se magari si sono trovati a vedere di nuovo lo speciale sulle iene o a leggere dei commenti di persone che si avventura in questa tematica portando delle delle convinzioni che sembrano veramente che se tu le leggi e non conosci la storia dici ma forse ti stillano veramente il dubbio ecco vi assicuro che quando si leggono le sentenze più di tutti più di tutti la sentenza di cassazione e quando si leggerà il libro che probabilmente riporta fedelmente quello che è diciamo il processo e poi la sentenza dubbi non ce ne sono cioè non c'è nulla in questo caso lasciato al caso scusatemi sono impappinato un po però è davvero stato fatto tutto quello che si poteva e che si doveva fare e approfitto ancora per descrivere un attimino il lavoro che è stato fatto da laura che avrò anche il piacere di leggere più là però so qual è stato l'approccio per scriverlo non l'ho letto ovviamente perché mi servo anch'io di questa sorpresa ma ci tengo a sottolineare che un libro basato proprio sul dibattimento no sulla parte del processo quindi che cosa è stato fatto in quell'aula dove non tutti abbiamo avuto accesso e quindi attenzione non è che non tutti avete no dico noi non c'erano tantissimi posti a dire il vero quindi bisognava venire la mattina presto e mettersi lì poi dopo poteva entrare tranquillamente chi voleva no dico noi che non siamo riusciti a partecipare no no siccome hanno detto che non c'è stato diritto di difesa perché non c'era la telecamera allora il giudice può decidere di non fare entrare le telecamere di tutti perché poi era veramente piccola laura non era tanto grande quindi non ci sarebbero state però il giudice ha ovviamente ha fatto entrare la telecamera nel momento della sentenza e comunque ha sempre fatto entrare noi giornalisti con i nostri taccuini io ho riempito non ve li faccio vedere qui ma non so quanti quaderni di di appunti e poi dopo mi sono eh procurata tutte le le sbobinature del processo per cui comunque quello che trovate nel libro è quello che è successo veramente e che comunque è stato raccontato sui giornali scritti che purtroppo la gente non legge perché puntualmente eh giallo ha ha sempre raccontato tutto quello che succedeva nel processo ma il Corriere Repubblica la stampa tutti i grandi quotidiani il quotidiano nazionale c'è roba che la gente normalmente non legge però raccontavano il processo non c'è solo la televisione ragazzi c'è la carta e giallo era una delle fonti diciamo più utilizzate anche dalle altre testate diciamo che veniva sempre o spesso citato sì 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 se noi abbiamo avuto prima gli atti e quindi abbiamo potuto sviscerare prima tutto quanto e poi dopo però avete avuto anche il privilegio di essere denunciato proprio da Massimo Giuseppe Bossetti o sbaglio poi sì 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 vabbè magari dopo lo racconteremo è stato archiviato ovviamente perché la verità è andata in questa direzione vi parlo di questo nebbiamo ancora prima della sentenza definitiva a terzo grado in Cassazione che è un episodio che aveva coinvolto eh Giallo ok poi ovviamente è stato archiviato perché si è visto che Giallo aveva raccontato in maniera lineare tutta quella che era la verità quindi era un giornale odiatissimo no cartaccia per chi ha difeso eh Bossetti ancora tratta però poi i fatti ci hanno dato la riprova che in realtà è stato fatto un lavoro fedele oggettivo e con un riscontro eh con le sentenze insomma ok racconteremo come siamo abituati a fare un attimino la storia non diamo mai per scontato che possiate conoscerla tutti anche se è un caso ormai famosissimo in Italia forse molti di voi si sono appassionati al crime proprio seguendo il caso di Iara Gambiriasio perché è stato il primo caso dove gli accertamenti scientifici hanno diciamo sono diventati famosi se così si vuol dire che hanno fatto scuola hanno incuriosito parecchi quindi questa prima la prima volta che il termine DNA è stato abusato se posso utilizzare questo e quindi si è acceso tantissimo tantissimo eh interesse Laura ti chiedono ancora come si chiama il libro se possiamo già anticipare lo presenteremo poi la copertina eh e si chiama Iara autopsia di un'indagine quindi autopsia di un'indagine altre domande personali prima di iniziare sì 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 io tutto tutto il processo però prima del processo raccontiamo un attimo i fatti e poi dopo eh magari rispondo a queste domande sul processo che sono molto importanti perché proprio fanno capire allora un riassunto rapido tanto la storia la conosciamo tutti allora vabbè Iara la piccola Iara sapete chi era era una ginnasta una bambina che andava a scuola Bergamo in una scuola privata cattolica una la quarta una la seconda di quattro figli di Fulvio Gambirasio e mamma Maura Panarese la mamma è un insegnante di eh scuola materna il papà è un geometra si occupa di pavimentazione cioè lavoro in un'azienda di pavimentazione di cantieri a tredici anni una ragazza senza grilli per la testa sì vabbè come tutte le ragazze di tredici anni è interessata le cose allo sport prima di tutto quindi la ginnastica ritmica la danza poi eh alle amiche a scuola va bene a scuola studia eccetera quel giorno Iara eh il pomeriggio diciamo ha preso dei bei voti per cui ha chiesto alla mamma se anche se quel giorno non avrebbe dovuto allenarsi perché un venerdì 26 novembre 2010 eh le vive a brembate di sopra chiede alla mamma se può andare in palestra lo stesso dopo che ha finito i compiti a portare uno stereo perché c'erano ancora l'isterio per la gara della domenica successiva e la mamma gliela accorda questo permesso benché non era previsto che uscisse insomma quel pomeriggio quindi lei va in palestra che ha 300 metri più o meno 3 400 metri da casa sua e sta lì un po' con le compagne non deve allenarsi appunto deve solo guardare cioè portare lo stereo poi sta lì un po' con le compagne alle 6 e 34 18 e 34 più o meno e non si 18 e 45 esce dalla palestra possiamo dirlo perché lo testimonia Fabrizio Francese che il papà di una sua compagna e che ricorda benissimo l'orario perché lui era arrivato alla stazione di alla stazione di Ponte San Pietro da Milano con il treno ha preso la macchina per andare a prendere la figlia appunto che invece si allenava quindi vede Iara che esce la saluta lui lei lo saluta ed esce questa è l'ultima volta appunto che viene vista Iara alle 18 e 49 il Iara manda un sms alla sua amica Martina per chiedere se tutto a posto per la per la gara di domenica della domenica e Martina risponde alle 18 e 53 poi dopo praticamente il telefono non non risponderà più la mamma siccome è abituata alla puntualità di Iara già si preoccupa alle 7 perché dice già ho un quarto d'ora di ritardo è strano e incomincia a telefonare alle 19 e 11 appunto chiama cioè il telefono fa uno squillo ma poi dopo non risponde più quindi questi sono i dati ovviamente lei si attiva va in palestra chiede dicono che l'hanno vista che l'hanno vista uscire poi va nella palestrina piccola lì sopra dove ogni tanto va a ballare anche e dice l'avete vista no noi non l'abbiamo vista a quel punto veramente inizia a preoccuparsi chiama il papà che era uscito con degli amici a cena con dei colleghi di lavoro per una cena di lavoro e dice guarda non è tornata quindi lui si precipita a casa inizia a cercare prima in giro lì con gli amici ma non la trova e quindi subito alle 20 e 30 già va a fare la prima denuncia di scomparsa è importante questo da dire perché dovete sapere che quando si denuncia la scomparsa di una 13 anni che non è una con i grilli per la testa che in genere scappa di casa come può anche succedere si attiva subito la procedura di ricerca in quel momento viene attivato questo sistema carro che è un po' antidiluviano per rintracciare il telefono e il sistema carro Laura scusami rispondi a questa domanda nel frattempo così le andiamo eliminando che la sai ma il padre di ieri quindi lavorava per la Lopav tu non si chiama Lopav si chiama lupia mi sembra lupia pavimenti ok perfetto e quindi che c'entra no non so perché era importante magari ci vorrà chiedere qualche altra cosa ah sì lo so perché l'hanno chiesto è perché c'è tutto non c'entra niente poi vi dirò perché non c'entra niente quindi la denuncia di scomparsa il sistema carro il sistema carro identifica cioè rintraccia diciamo il telefonino tra le province di Bergamo e di Monza cioè molto alleatorio perché un sistema abbastanza antiquato non riusciva ben a parte che non era un telefonino come quello che ho io un iPhone uno smartphone il telefonino di Yara era un telefonino di quelli che si usano solamente per mandare gli sms e con cui si telefonava ecco un telefonino di quelli un po' vecchi poi quindi cosa succede ovviamente si attivano subito le ricerche viene aperto subito un fascicolo in procura perché è scomparso una bambina di 13 anni in genere questi fascicoli si aprono subito per sequestro di persona perché con quel tipo di reato tu puoi fare delle delle attività e quindi le attività vengono fatte tutte vengono intercettati tutti i familiari tutte le compagne tutte le insegnanti nel frattempo vigili del fuoco protezione civile cane di tutto viene messo in campo per cercare Yara era la figlia di tutti e purtroppo non non si trovava ci fu una grossa mobilitazione la gente era molto spaventata ovvio molto sentito nel posto furono organizzate delle fiaccolate anche genitori per quanto si sottraevano alle telecamere decisero di fare un appello pubblicamente molto molto anche quello ma anche in quello è stato visto chissà che cosa ma poverini erano veramente disperati e loro ovviamente dicevano magari magari abbiamo fatto qualcosa che non è come qualsiasi genitore direbbe magari abbiamo fatto magari è scappata magari abbiamo fatto qualcosa e non ci siamo resi conto però è possibile è stranissima sta cosa vabbè sta di fatto oppure qualcuno l'ha napita pensando scambiando ma è per qualcun altro ovviamente perché poi ripeto il padre è stato scannerizzato in tutti i modi e le sue attività normalissime le sue conoscenze addirittura sono state anche tratte ovviamente tutte le analisi possibili immaginabili sui computer della sorella di iara telefonini fibre dna tutto quello che c'era in casa tutto le la l'insegnante è stata seguita intercettata il fratello tutto e non è emerso ma niente comunque il 26 succede questa cosa pazzesca che il 26 febbraio del 2010 quindi tre mesi esatto dopo c'è questo signore che va a far praticamente volare il suo aeromodello nel campo di chignolo che è un campo incolto lì che c'era vicino a delle aziende delle discoteche a chiniero d'isola che più o meno ha otto chilometri da brembate di sopra e fa volare il aereo scotte appunto fa volare l'aereo modello a un certo punto l'aereo modello cade capitale in questo campo e lui va a cercare di prenderlo perché costano molto questi aereo modelli non sono robe così è una roba grossa e mentre va tra i rovi altissimi questa vegetazione in consulta che è cresciuta a un certo punto raccoglie l'aereo modello poi dopo si volta e vede qualcosa di strano sembra quasi una busta di plastica nera dei cenci dei rifiuti non capisce bene si avvicina meglio e capisce che è il cadavere di una bambina e lui subito capisce sente che c'è qualcosa che è che può essere iara non è sicuro tenta di girarsi quasi non lo ritrova tanto sono alti rovi tanto sono tanto la vegetazione e e fitta allora quel punto rimane lì e da lì telefono alla polizia 113 e ovviamente arriva no non erano alberi era sterpagli e guglielmo scusami era un campo incolto tipo i cardi ma molto alti lui erano molto spinosi anche spinosi ma degli arbusti spinosi considera che lui stesso no non riesce a guardare questo corpo quindi si è lontana e poi se lo mette a ricercare affannosamente perché non lo ritrova perché poi ora quando arriva la polizia mi prendono diciamo per un mitomane invece poi lo ritrova e cerca di non perderlo di vista questo perché nacque una polemica molto forte sul fatto che il corpo non fu ritrovato anche perché quando arrivarono i giornalisti e tutto quanto il campo voi lo ricordate è totalmente ehm non viene la parola beh non comunque eh beh gran parte dei delle delle immagini che poi sono state viste poi il campo fu totalmente però i giornalisti non potevano andare dentro ragazzi certo quindi dentro ci sono andate la polizia con i calzari e tutto quanto la l'anatomo patologa e ci è andato chi doveva andare i giornalisti stavano ben lontani perché quelli quel corpo lì era a 300 metri da una parte a 180 dall'altra in mezzo al campo era impossibile trovarlo perché non è stato cioè non è stato fatto un rastrellamento a come si dice a griglia a griglia no cioè andavano intorno quindi non avrebbero mai mai potuto vedere mai sia ben chiaro anche questo poi eh comunque viene trovato ovviamente come sapete i cadaveri parlano e questo cadavere ha parlato tanto e ha detto molto ehm innanzitutto in che condizioni era se volete ve lo dico perché l'ho visto aveva la testa eh per metà mangiata dagli animali probabilmente quindi attività di scavenging animali che si trovano normalmente eh nei campi quindi topi lontra e questo tipo di animali ehm poi aveva una gamba anche in una parte di turpata insomma mangiata i vestiti erano quello che vedete i famosi leggings e il giubbino era sì più o meno intatto e sotto c'era questa eh la maglietta comunque abbastanza dilavata perché aveva piovuto però era in crisi di di liquidi putrefattivi e poi aveva le scarpe slacciate ehm ed era lì in posizione così supina eh sotto cioè ovviamente quando il il cadavere prima di spostare il cadavere vengono fatte delle analisi intorno anche quindi tutto viene se questo viene repertato tutto quello che c'è e che poi non risulterà assolutamente che c'entri con il caso perché magari erano dei panzoletti che erano stati portati dal vento eh cose che non c'entravano assolutamente niente e quindi poi dopo viene viene smosso il cadavere portato all'istituto di medicina legale di Milano appunto dove c'è la processa Cattaneo che eh che presiede e viene fatta poi tutta un'attività di ricerca sotto ok quindi dove insistere il cadavere e lì eh e lì poi verranno trovati degli elementi fondamentali per capire e stabilire scientificamente al cento per cento che il cadavere è stato lì tre mesi non è mai stato spostato non è stato rimosso non c'era bisogno di rimuoverlo è stato preso un po' di di terreno ed è stato analizzato dal professor Tajana dopo vi spieghiamo un attimino anche i risultati che sono stati fatti di botanica forense e di entomologia perché è importante questa voglia di solidago che viene trovata dietro la testa se spondiamo Ahmad no è assolutamente diciamo fuori da ogni logica nel senso che è stato accertato che il corpo non si è mai mosso la piccolaiera stringeva nel polso la la gramigna che c'era per terra e gli era perfino ehm una caviglia ormai era praticamente avvolta dall'erba che era cresciuta intorno ma non è solo proprio la 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 natura del liquido putrefattivo e quanto il liquido era penetrato nel terreno hanno potuto stabilire quanto tempo e poi le spore ehm che erano eh che stavano adesso lo spieghiamo un attimino quello spieghiamolo spieghiamolo un attimo adesso ci togliamo ci togliamo un attimino questo sassolino dalla scarpa che cosa è stata fatta nella nell'analisi di botanica forense sono stati studiati dei semi dei germogli caratteristici di quel campo quindi risponde anche a una domanda che era stata fatta prima che ci diceva il campo era un campo da coltivazione d'inverno e raso non è stato il caso del campo di chignolo non era raso quindi e ve lo assicuro perché anche dalle immagini e la videocamera mentre vanno a ripescare il cadavere non si vede nulla c'erano questi arbusti cescugli molto folti e scuri quindi il campo non era raso questo ve lo assicuro ritornando all'esame di botanica che cosa hanno fatto? Esistono delle piante delle erbace caratteristiche del campo di chignolo va bene anche di altri campi ma nel campo di chignolo in particolare che sono le piante di epilobium ok? Che cosa è successo? Queste piante sono caratteristiche piante invernali che crescono manco a farla apposta proprio nel periodo che va da fine ottobre ad inizio marzo che succede che tutte queste piante nei dintorni del corpo di Yara riescono a crescere mentre quelle che hanno sotto il corpo di Yara no perché ovviamente anche queste piante essendo invernali hanno bisogno comunque dei raggi solari di fare la fotosintesi come tutte le altre purtroppo il corpo di Yara bloccava questo tipo di processo e quindi i semi non sono riusciti a germogliare questo dimostra la giacenza proprio in quell'arco temporale lì in più poi come vi ha raccontato Laura anche l'analisi che è stata fatta dei terreni è riuscita a individuare dei fluidi corporei che avvengono nella fase colliquativa che è una delle fasi di trasformazione cadaverica per il processo di trasformazione e potrefazione quindi che cosa succede? questa fase avviene nell'arco della prima settimana non oltre quindi i liquidi sono stati persi dalla morte in poi che è fatta corrispondere al 26 novembre perché c'è anche l'analisi del contenuto gastrico di Yara Gambirasio che corrisponde all'ultimo passo che ha fatto quel giorno 26 novembre quindi ne facciamo coincidere la morte con quel giorno lì. un dettaglio sulla morte è che è vero che ci sono state delle ferite da arma da taglio e punta però diciamo una concomitanza di fattori tra cui ciò che è emorragici e freddo hanno contribuito alla morte anche di questo si è discusso che è stata molto lunga è stata una lunga agonia l'ha lasciata morire non cambia perché se lui non avesse né rapita né ferita Yara sarebbe ancora viva quindi per me equivale ad averla uccisa ok? c'è un'altra cosa lui gli aveva dato per primo per primo prima di seviziarla in quella maniera quindi di tagliarla tutta e convintamente di volerla violentare ma poi non c'è riuscito comunque prima gli aveva dato un colpo in testa che gli aveva provocato un'emorragia cerebrale quindi è possibile anche che comunque non si sarebbe risvegliata o non sarebbe risvegliata cosciente se si fosse risvegliata comunque e poi cerca pure di depistare perché fa una sorta di X dietro la schiena no, quelle non sono, sono casuali quelli sono tagli casuali che ha fatto così alla cavolo col suo taglierino no, no sicuramente per cercare di alzare no, quella lì è una leggenda metropolitana proprio assolutamente mai provata è tutto molto casuale in realtà nella dinamica hanno poi hanno riscritto che lui avendo una mano armata e lei comunque aggidandosi perché era piccola ma era un atleta nell'alzargli la maglietta e impugnando dalla parte quest'arma da tagli e punta l'abbia scalfita in quel modo con forza ma sì ma lui voleva, cioè allora a un certo punto ha detto questa qui la devo far fuori perché mi ha riconosciuto cioè nel senso non mi ha riconosciuto potrebbe riconoscermi se domani si sveglia e va dicendo che sono stato io no? a quel punto la devo far fuori, non ce n'è solo che o non aveva avuto il coraggio o non aveva i mezzi per farlo perché il taglierino alla fine non è un coltello così tremendo comunque gli ha dato sto colpo in testa e gli ha fatto venire l'amorologia cerebrale sta di fatto che l'essere ha, possiamo dire l'assassino tranquillamente ha lasciato una bella firma sul cadavere e l'ha lasciata, attenzione, sugli slip, sulle mutande perché mi piace più dire mutande così si capisce meglio e sui leggings nello stesso punto, cioè nel punto corrispondente anche al taglio che ha fatto ai leggings e alle mutande ecco perché quando nel 2011, anzi 2012, quasi un anno dopo del ritrovamento i RIS hanno isolato una traccia di DNA maschile ignota sulle mutande e sui leggings ovviamente a quel punto hanno detto che quella traccia di maschio ignoto su una bambina di 13 anni che non conosceva uomo, ok? ignoto, quindi non è il padre, non è il fratello, non è lo zio, non è il cugino, non è il nipote, non è l'amico ma è ignoto, per forza deve essere l'assassino, per forza cioè è una tautologia, anzi è un aforisma tipico aristotelico questo, no? ok, se l'assassino ha lasciato il DNA, il suo DNA sulle mutande e sui leggings è ovvio che abbia tentato una violenza, no non l'ha fatta, era vergine c'è scritto anche nell'autopsia e probabilmente l'ha tentata ha perso qualche liquido che non si è ancora riuscita a stabilire quale ma perché? Semplicemente perché c'era tanto liquido di Yara tanto sangue di Yara che copriva qualsiasi altro tipo di liquido per fortuna non così tanto da coprire questo DNA che comunque era in grandi quantità poi questo lo spiegherà meglio Giovanni cioè i picogrammi erano proprio tanti di DNA maschile e ignoto ripeto, maschile e ignoto sulle mutande e sui leggings ecco perché a quel punto si è detto l'assassino è lo stesso che ha lasciato sto DNA per forza perché, cioè, non si spiegherebbe altrimenti un DNA maschile e ignoto sui leggings e le mutande soprattutto di una bambina di 13 anni peraltro aveva anche le inserazioni quei giorni infatti allora, a quel punto è partita la caccia e si è deciso di investire non crediate chissà quanti miliardi di euro due milioni di euro due milioni di euro oggi non costa nemmeno una minima indagine per corruzione due milioni di euro si è spese nemmeno tantissimo e si è deciso di fare questa indagine genetica a tappeto perché? è semplice perché la vittima era una bambina di 13 anni era una bambina di 13 anni questo bisognava trovarlo in qualche modo e questo era un modo per trovarlo allora, iniziamo a fare tutti i DNA certo, non era semplice bisognava cercare sicuramente dei maschi della zona cercare di restringere almeno nella zona mentre si fanno questi DNA quindi si prendono questi DNA perché non abbiamo ancora la banca dei DNA in Italia a un poliziotto viene un'intuizione un poliziotto della polizia di Bergamo il capo della mobile e dice ma sentite visto che qui sul campo insiste una discoteca che si chiama Sabbie Mobili nella quale ci sono più o meno 5.000 iscritti che devono avere la tessera per frequentare la discoteca perché non andiamo a cercare andiamo a fare il DNA prima ai maschi di questa discoteca così iniziamo intanto ad escludere che possa essere stato qualcuno che quella sera era in discoteca magari e fanno questi DNA fanno questi DNA e scoprono che tra questi 5.000 iscritti c'era uno che aveva un DNA per alcuni alleli simile a quello di Gnoto 1 si chiama Damiano Guerinone un ragazzo di 38 anni lo chiamano e lui dice guardate io il 26 novembre non ero qui ero in Peru loro verificano l'alibi ed effettivamente questo ragazzo era in Peru a fare volontariato allora dice senti ma tu hai parenti qui in zona perché comunque non era lui il Gnoto 1 nel senso che il DNA non era il suo però poteva essere della stessa famiglia allora dice guarda io ho dei parenti ma in Val Seriana non qui ah va bene allora vanno in Val Seriana io ve la faccio semplice poi nel libro la troverete meglio la cosa perché la raccontano loro e vanno a rifare l'analisi genealogica di tutta la famiglia Guerinone dal 1790 fino ad oggi fino a che trovano soldoni ve lo dico trovano prima uno zio diciamo di questo Gnoto 1 e quindi poi il padre che era il fratello di questo zio che era morto però allora dicono e come facciamo adesso a beccare il DNA di questo qui vanno dalla moglie e dicono senta c'è questa cosa lei ci dovrebbe dare una mano la moglie è molto gentile gliela dà lo stesso anche se è morto il marito gli dà un francobollo che lui primo un francobollo su una cartolina che lui le aveva spedito e che sicuramente lui aveva leccato secondo la sua patente che aveva conservato la moglie e su cui mettevamo noi ai tempi i bolli la marcata bollo e lì là estraggono questo DNA dall'estrazione di questo DNA dalla comparazione viene fuori che questo qui al 99,87 qualcosa per cento compatibile con il padre di ignoto 1 cavolo dicono quindi ignoto 1 ignoto 1 è figlio di Giuseppe Guerinoni morto nel 97 96 no 99 no dice il loro sono convinti ormai però dice il il consulente genetista della famiglia Gambirasio il dottor Portiera che abbiamo visto veramente alla svolta di tanti casi ultimamente dice no scusate io voglio essere più sicuro del re andiamo a riesumare la salva di Guerinoni e prendiamo il DNA dal femore per essere sicurissimi che sia lui il papà di ignoto 1 e così fanno riesumano la salva di Guerinoni e estraggono il DNA dal femore e lì c'è la sicurezza al 99 87% perché la scienza non dice mai 100% e quindi a quel punto trovato il padre bisogna trovare la madre e a quel punto viene detto alla moglie che il marito aveva avuto una relazione extra coniugale o perlomeno aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio che era in autunno Laura ho una domanda da farti vediamo se mi sai rispondere una curiosità che mi è venuta quando ho visto uno degli speciali fatti sul caso i carabinieri hanno raccontato che per trovare la madre di Bostetti hanno praticamente si sono inoltrati i funerali hanno iniziato a parlare praticamente ovunque immaginate voi questa scena del carabinieri in borghese che va al funerale del paese fatto male allora c'è una figura importantissima in questa indagine che è il maresciallo Mocerino il maresciallo Mocerino Giovanni Mocerino che quando l'ho conosciuto io cioè quasi alla no gliel'ho conosciuto all'inizio però poi dopo quando l'ho ritrovato nel processo era passato diciamo di grado perché era stato assunto in procura dalla dottoressa Ruggeri come suo veramente braccio destro in realtà prima il maresciallo Mocerino è stato per 30 anni il comandante della stazione di Piusone voi dovete sapere che i comandanti delle stazioni in Italia sono veramente delle istituzioni e sono i depositari veramente della storia di un comune di un paese di una zona quindi il Mocerino andava in giro al paese con tutti gli altri a cercare di capire chi cavolo potesse essere sta ragazza che Giuseppe Guerinoni aveva frequentato ma nessuno gli voleva dire niente o perlomeno tanti non sapevano o non se la ricordavano si ricordavano che c'era una ma ce n'erano anche tante perché il Giuseppe era una a cui piacevano le donne cosa fanno allora vanno a trovare a prendere il DNA di tutte le donne vive ovviamente perché molte erano già morte che Guerinoni aveva in qualche modo incrociato nella sua vita quando le accompagnava alle gite alle terme di Salice quando le accompagnava al lavoro con l'autobus perché lui era un attista di auto e sono più o meno 534 tra queste 534 nel 2012 più o meno viene isolato un DNA che ha un allele molto particolare 27 che inizialmente non viene preso un po' così sotto gamba adesso poi Giovanni ve lo spiega meglio questa storia ma poi da una stegista dell'università di Pavia del professor Previderè una stegista del professor Previderè dice guardi questo allele è proprio particolare e ce l'ha ignoto uno e ce l'ha questa signora è il 27 quindi potrebbe essere la madre nel frattempo attenzione l'alpino c'è un alpino del paese di Clusone che va dal maresciallo Mocerino mentre lui sta sistemando le piante della caserma perché fa un po' di giardinaggio e gli dice senti mi sono ricordato forse chi poteva essere la ragazza ok quindi è tutto un po' un contemporaneo ragazzi cioè questa storia è un romanzo veramente ma è andata veramente così scusami Laura ti posso interrompere un attimo volevo richiedere una cosa che ci siamo già tornati Ari di Fifo allora non è non sono gli inquirenti non sono le autorità che dicono che Yara è stata lì tre mesi ed è morta lì è la scienza che lo dice anche la difesa non ha alcun dubbio su questo perché ci sono ormai una serie di accertamenti scientifici che vanno dall'accertamento geologico quindi dall'esame del terreno all'esame dei ditteri quindi dall'entomologico che ti spiega in realtà intanto se il cadavere cioè se la persona è morta lì perché noi come diceva poco fa Giovanni quando moriamo rilasciamo dei fluidi corporei che sono indicativi se quelli entrano nel terreno è chiaro che ti sei ti sei decomposta lì e poi c'è anche un altro fatto c'è stata una consulenza entomologica che ha spiegato che i tipi di larve di mosche che sono state trovate su Yara avevano proprio tre mesi di vita tre mesi sei mesi quanto abbiamo detto tre mesi tre mesi sì 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 quindi cioè è lì che si è è lì che è stata poi tra l'altro noi abbiamo fatto la lezione da poco quindi mi è rimasta l'entomologo non è che studia soltanto i gli insetti che trovi sul cadavere ma tutto anche la fauna intorno perché le larve poi si spostano e quindi comunque arrivano a dare un dato che è quasi vicino al al dato certo quindi non sono gli inquirenti loro non hanno neanche le competenze sono una serie di consulenti che poi accertano perché a volte magari nei corpi speciali insomma nella scientifica nel RIS ci può essere quel consulente cioè quel militare che ha quella specializzazione ma l'entomologo piuttosto che il geologo in genere non lo trovi nel RIS o nella polizia scientifica sono proprio periti nominati o consulenti del PM in questo caso dunque dovete sapere che per essere più sicuri del re per non avere nessun tipo di contaminazione eccetera eccetera tutti hanno fatto il loro lavoro ognuno da uno da una parte uno dall'altra cioè il professor Giardina si è occupato delle donne quindi del mitocondriale il professor Previderè ha isolato il DNA della madre i RIS avevano isolato ignoto uno l'università cioè c'erano varie università che lavoravano tutti i genetisti forensi gente di altissimo livello vi assicuro che le udienze erano delle lezioni di genetica ma a parte questo a parte che sì gli asini volano infatti lì hanno scritto ma possiamo magari rispondere in una maniera prima scientifica e poi criminologica no? perché comunque sono le teorie che sono andate in tv fondamentalmente quindi in maniera anche molto seria Bossetti stesso comunque ha fatto il nome di una persona che secondo me lui era incastrato non col preservativo è stato processato per calunnia lui perché dovete sapere che quel tizio che si chiamava Maggioni che io peraltro ho anche intervistato Corello se proprio vogliamo essere sicuri 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 visto che le indagini sono state fatte anche su di lui e per quello lui è stato processato per calunnia perché ha messo pure in campo gli inquirenti su quello lui non era lì quel giorno nel senso che lui era in ospedale perché aveva subito una operazione di hernia al disco quindi comunque passiamo al DNA diciamo così poi spieghiamo che non è soltanto per quello che Bossetti è stato condannato anche per io mi dico solo che arrivano alla madre velocemente ve la faccio in breve quindi arrivano la madre prendono il DNA della madre fanno il match come si suol dire e si risulta che la mamma di ignoto 1 è Esther Arzuffi questa Esther Arzuffi che guarda caso era andata a vivere a Brembate dopo aver vissuto a Parre lì vicino al Guerinoni in Val Seriana e aveva avuto tre figli di cui due gemelli Massimo è Laura e quindi bisogna escludere Laura perché femmina ignoto 1 è maschio e l'altro Fabio nato dopo dopo 4 anni che peraltro vabbè non aveva nemmeno lui il DNA del padre ma questa è un'altra storia non importa quindi a quel punto cosa fanno il 14 giugno del no il 16 giugno del 2014 fermano cioè seguono questo Massimo Bossetti in un supermercato cercando sperando che bevesse un caffè per prendere il DNA dalla tazzina ma niente questo nemmeno bello caffè allora lo fermano per un controllo con l'etilometro gli fanno appunto l'etilometro e lui quindi soffia nell'etilometro quell'etilometro viene portato subito all'istituto di Pavia e lì viene appunto fatto l'ultimo match che è quello che dà l'identità di Massimo Giuseppe Bossetti il quale viene arrestato il giorno dopo su un cantiere di seriate dove stava lavorando a questo punto inizia tutta la parte processuale cioè quindi quello che avrebbe dovuto forse fare lui ha un avvocato d'ufficio che si chiama Silvia Guazzetti che però rinuncia quasi subito non dirà mai perché ma lo sappiamo perché perché comunque lei gli aveva consigliato l'abbreviato probabilmente che allora si poteva ancora fare condizionata magari ad un nuovo incidente probatorio ad una nuova analisi e arriva questo conoscente di questa Guazzetti che si occupava di molte stradali in generale prima a difendere Bossetti e vabbè poi dopo insomma andiamo avanti e poi tutto il resto diciamo Giovanni però allora la prova regina di questo processo è il DNA perché perché a differenza di tutti gli altri casi e quindi questo deve togliere i dubbi a chiunque non si va ad indagare sul l'amico il conoscente allora si trova il DNA compatibile con quello sulla mutanda ma si parte da un ignoto per arrivare ad un noto nel modo in cui vi ho detto quindi assolutamente scientifico e investigativo di cervello dall'altra parte per cui è assolutamente un'indagine top da questo punto di vista dal punto di vista genetico poi gli altri indizi concordanti e gravi che hanno portato alla condanna quindi non solo il DNA arriviamo dopo e ci sono perché dico allora il DNA dentro le mutande anche se fosse stato quello non so del cugino del padre che tu dici se c'è il DNA sul giubbotto sulla maglia se ce l'avevi dentro le mutande comunque era già un dato un dato se poi è il DNA di uno sconosciuto capisci bene allora di prove ce ne sono state tante però il problema diciamo è sempre stato legato a quello del DNA e ora recentemente la trasmissione delle iene è tornata di nuovo su questa storia mettendo in dubbio anche il fatto del che non si sia trovato il DNA mitocontrale quindi noi ve lo facciamo spiegare da Giovanni che è il suo campo e quindi vi spiega proprio come è stata fatta una cosa che qualcuno l'avrà già letto perché avrà visto lo speciale ad esempio ancora prima che si trovasse Bossetti quando avevano soltanto questo DNA dignato 1 facevano uno studio sul tipo di DNA e già si cercava un uomo biondo con gli occhi azzurri al 94% quindi comunque già perché loro cercavano e tra l'altro avendo comunque filtrato vabbè spiega la tua storia perché loro filtrano l'aplotipo Y quindi allora c'è una tecnica che si chiama DNA fingerprinting in pratica è un'impronta digitale perché i nostri alleli che sono le varianti igieniche ok come funziona c'è un'informazione scritta nel nostro DNA che codifica per alcuni caratteri che possono essere il colore degli occhi dei capelli altri tipi di caratteristiche oppure anche il funzionamento di varie proteine all'interno del corpo ok quindi alcune sono già conosciute andando a leggere questa informazione si può fare una sorta di identikit ovviamente quello che non si può ricostruire dal DNA è proprio la fisionomia ok ancora non si è riusciti a tracciare un identikit per riuscire a vedere proprio la forma del viso tipo la lunghezza del naso mediamente ma caratteri tipo come il colore delle malattie sono tracciabili si possono seguire e quant'altro quindi loro già avevano un'idea su chi andare a cercare tanto è vero c'è anche un famoso aneddoto proprio legato a questa storia qui che i media in realtà savano avevano dato già questa informazione che era venuta fuori dal sequenzamento ma al contrario della reale informazione nel senso si cominciava a vociferare di un uomo scuro con gli occhi scuri e quant'altro così che poi diciamo il vero responsabile dagli occhi guari si sentisse anche al sicuro poi ci sono state addirittura delle testimonianze al riguardo diciamo le lascio fuori ma molti ricordano che Massimo Giuseppe Bossetti è stato denominato dai colleghi e favola perché diciamolo non è un uomo limpido è un bugiardo e ci sono tante cose quindi anche quello fa secondo me parte della sentenza perché ha mentito su tantissime cose ha mentito anche riguardo al suo alibi di quella sera perché la moglie marita come è stata una delle prime di incalzarlo ma cosa hai fatto quella sera perché sei venuto tardi tardi c'era qualcosa che non andava come c'è qualcosa che non andava che un uomo ricordasse dopo quattro anni che in quella giornata il suo cellulare fosse scarico se voi lo chiedete a me quattro anni fa il mio cellulare a quest'ora che percentuale batteria io non ve lo so dire questi eventi ti vanno ricordati quando avviene un qualcosa di traumatico che ti resta impresso tu ripercorri ovviamente tutta la giornata perché è un evento che non accade tutti i giorni e fissi anche le minime cose come può essere quella della percentuale della batteria ma ritornando a noi a questa traccia qualcuno prima mi chiedeva il fatto della contaminazione come è possibile che sia allora innanzitutto si è parlato di traccia commissa vi spiego che cosa vuol dire il termine commisso è importante cioè la traccia di ignoto 1 è stata lasciata nel momento in cui Yara stava proprio sanguinando cioè per dirvelo in termini semplici la commissura quindi il fatto che ci sia il profilo genetico di ignoto 1 poi individuato in Massimo Giuseppe Bossetti di Yara Gambirasio è avvenuto perché il sangue in quel momento era ancora liquido quindi avvenuto nel momento dell'aggressione momento in cui le ferite erano aperte ed ecco perché si parla di traccia commissa tant'è vero quelle mutande che avete visto sono state divise in varie griglie ok in varie caselle di una griglia e sono stati campionati punto per punto le varie tracce che appartengono ovviamente ad un'unica traccia di sangue commisso ma con delle percentuali diverse le tracce 31G19 31G20 sono quelle dove il profilo genetico in realtà di Bossetti era completo leggibile ed alta quantità che ovviamente si parla di figo rami ma qua veramente ormai siamo arrivati oggi che con tre cellule si tira fuori un profilo genetico completo e leggibile nelle altre parti della griglia che fa sempre parte di quella macchina in realtà c'era ma c'erano comunque dei punti di degradazione quindi non era totalmente leggibile hanno preferito non usarlo ok ma solo per una questione di avere diciamo tutti i tasselli in ordine e tanto è vero sì cioè l'analisi che cosa vi dice che alcuni punti del DNA che vengono scelti per il confronto che poi vengono chiamati marcatori quindi l'avete sentito tantissime tantissime volte nell'analisi che è stata fatta per questo caso il matching tra la traccia di ignoto 1 all'epoca e di Massimo Giuseppe Bossetti una volta che è stato individuato ha dato la risposta di ben 24 marcatori per risposta si intende che quelle 24 posizioni comparate tra di loro erano uguali e statisticamente a livello mondiale è impossibile che avvenga una sovrapposizione del genere se non si sta parlando dello stesso soggetto anzi ci sono dei paesi dove basta 13 no? dove bastano 13 e noi qui ne servivano 16 e lì ne hanno fatte 24 considerate che quella traccia di DNA è stata analizzata in laboratori diversi ed è stata amplificata 110 volte e 75 volte ha dato lo stesso risultato di ignoto 1 che poi è stato comparato a quello di di Bossetti quindi cioè non è che dice rianalizziamo i reperti è stato analizzato in tre laboratori diversi amplificato 110 volte con un risultato del 75% rispondo anche a Stellina quando parlava di kit scaduti non è una bugia è vero che tra questi kit sono risultati dei kit che erano scaduti ma la corte di Cassazione ha spiegato come l'avevano spiegato i consulenti a loro tempo che se un kit scaduto non dà il risultato cioè non funziona ora ve lo spiego io bene 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 dice che quelle zone che vanno quelle zone che vanno confrontate che vi ho detto no no questo qui è riferito alla PCR come funziona adesso cerco di spiegarvelo in maniera semplice vi ho parlato di queste zone che vanno confrontate quando sentite il termine amplificazione vuol dire che vengono duplicate utilizzo faccio un abuso di questo termine che in biologia è la duplicazione in altra cosa però io prendo questi pezzetti ok li amplifico quindi faccio tante tante cose la reazione si chiama PCR reazione a catena della polimerasi che significa che questa enzima che fate finta che è una piccola bestiola che va su quella posizione e si copia quello che c'è scritto riproduce questi elementi che poi vado a confrontare ora le cose sono due l'enzima o funziona o non funziona nel senso che se il kit è scaduto e non è stato rigenerato bene e io sfido chiunque a me viene da ridere perché se uno fa le questioni sul kit rigenerato vuol dire che non ha mai messo piede in un laboratorio non prendiamoci in giro venga qua qualunque vuol dire che non vi siete laureati non siete mai entrati in antenna o in laboratorio perché è una roba che si fa perché che cosa succede ovviamente è una cosa industriale mi dispiace dirlo ma a me piace dire le cose così come stanno di quel buffer che è diciamo la soluzione acquosa dove lavora questa enzima magari l'enzima che scade se lo ricompro da parte e lo rigenero e il buffer mi funziona la reazione non mi può dare un malfunzionamento non è che questa cosa mi fa funzionare male l'enzima perché l'enzima non è che è in grado di ragionare effettivamente un qualcosa che funziona in una maniera piuttosto meccanica quindi se non funziona vuol dire che l'amplificazione non avviene proprio nel momento in cui parte e funziona non avviene in maniera sbagliata va avanti in maniera meccanica senza dare la minima percentuale di errore quindi tanto è vero poi questa roba dei kit è decaduta negli altri gradi perché poi quando il genetista gli è stato messo davanti queste robe non ha avuto più il coraggio di affermarlo loro hanno avuto un primo consulente che diciamo davanti a queste cose è stato un po' più diciamo onesto sia sul discorso dei kit sul discorso del DNA mitocondriale perché poi questa storia del DNA mitocondriale ce la riportiamo e la rispiegata il primo consulente in verità disse che non aveva senso fare le ricerche sul DNA mitocondriale poi evidentemente il primo consulente alla difesa di Bossetti non è piaciuto e ne hanno portato un altro che si è preso le legnate dalla Cassazione che ha detto fantasioso cioè ragazzi la sentenza di Cassazione è una pietra diciamo tombale sulla professionalità di certe figure non le dico tutte ed è anche facile da leggere però allora guarda in questo caso qui proprio di questa specifica reazione non ci può essere il risultato cioè sbagliato perché vi ho detto le strade sono due o funziona o non funziona se funziona funziona bene cioè non è che l'enzima si rincretinisce nel momento in cui si trova in un buffer differente perché alla fine è acqua con dei metalli per farlo funzionare meglio quindi non avrebbe dato alcuna amplificazione cioè se quell'enzima era difettoso non sarebbe proprio partita la reazione una volta che parte va avanti fino alla fine la porta a compimento nella maniera ottimale cioè questo è un dato proprio certo 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 non dimentichiamo che comunque Saragino quindi sai benissimo il laboratorio come si fa la professoressa Saragino che era consulente genetista della famiglia cioè di Bossetti disse che perché glielo fecero fare poi privatamente il l'esame del DNA disse che quello era il DNA di Bossetti però allora non si allineavano i primer problemi di allineamento del primer non sono dovuti diciamo all'enzima che tra virgolette si rincretinisce o c'è un difetto proprio nei primer che vengono disegnati sequenza specifico come ben saprai o problemi del termocycler che in pratica non ti regola c'è bene le temperature le tempissiche quelli sono gli errori ma non nella parte chimica di quel reagente cioè se tu hai lavorato la piccola dovranno avere questi errori in tre quattro laboratori scientifici di universitari diversi e poi lasciando le coincidenze un po' troppe coincidenze ora io l'ho sempre detto ancora prima di avventurarmi di conoscere le cose un po' Laura è stata al processo Giovanni l'ha studiato perché già comunque era interessato io ero una che si limitava a guardare gli articoli per me era un dato certo quando lo vanno ad arrestare che lui non prova a scappare e quando gli metto le manette non dice ah per me era la prova quando parlavi con quelli che invece avevano la prova e ti dicevano ah ma no ma che c'entra invece quello lì è uno degli indizi che ha diciamo pesato nella sua condanna insieme a tanti altri perché purtroppo la narrazione che continua come se nessuno avesse letto le carte come se fossimo tutti lì ad ascoltare la televisione e basta è che Bossetti è stato condannato solo per il DNA ma non è assolutamente vero le prove quegli indizi sono circoscritti sono sostanziali cioè non sono buttati lì a caso il primo è quello poco fa Giovanni mi diceva che lui non aveva praticamente un alibi cioè quella sera lui non si ricorda cosa ha fatto non era a casa perché non era a casa e una delle diciamo favole che sono venute fuori di nuovo nel servizio delle Iene è la famosa cella perché la cella aggancia la la cella di Brembata insomma quella della palestra e il suo avvocato dice sì è anche quella di casa va bene ma lui non era a casa quindi lui alle 17.45 era lì ma non era a casa quindi se tra l'altro disse che era lì perché era andato dal commercialista lui non lo nega tra l'altro lui non nega di essere passato da lì la storia del furgone che vi raccontano che è stata manomessa non è vera cioè nel senso i carabinieri confezionano un video da mostrare alla stampa in cui si vedono questi fotogrammi tutti insieme però nel processo vi assicuro che il video viene spiegato no il video non l'ha manco voluto vedere ha detto tanto noi abbiamo già tutte le fotografie che peraltro noi di Giallo avevamo pubblicato perché ce l'avevamo tutte il giudice ha detto a me del video non mi frega niente a me interessano le fotografie sono quelle le prove non il video esatto lui passa e ripassa e non solo viene fatta una consulenza anche sul furgone il furgone che vede là davanti a parte il fatto che loro fanno un'indagine e vedono che furgoni come quelli ce ne stavano 5 nelle province partono da 18.000 infatti si parla di compatibilità nelle province diciamo compatibilità alla fine ne evidenziano 5 di questi 5 quei 4 sono stati interrogati e avevano un'alibi da un'altra parte il furgone ripreso in quei fotogrammi viene comparato con il furgone di Bossetti ci sono 16 punti che confermano che quel furgone è uguale perché poi sono furgoni standard ma che comunque a seconda del lavoro che fai vengono montati in una certa maniera e quello è il suo cioè è un dato che è il suo tra l'altro lui non lo nega che è passato di là quindi c'è lo nega la difesa non lo nega lui perché lui ha detto sì probabilmente sono passato da là dopo il furgone c'è il discorso vabbè del telefono il fatto che lui torna a casa non lo spiega e poi c'è la famosa storia delle ricerche pedopornografiche sul computer la moglie cerca di salvarle in qualche modo dicendo che anche lei faceva queste ricerche non pedopornografiche però sta di fatto che ce n'è una in cui lui era assente per malattia ed era in casa il figlio era a scuola la moglie era con la madre ed erano fuori e lui era solo a casa e la ricerca è tredicenne dai capelli rossi tra l'altro con la vagina rasata cioè quindi ragazzi questo è un elemento che pesa e un altro elemento che pesa nel giudizio è il fatto che lui da subito comincia a intrattenere delle conversazioni dal carcere a sfondo sessuale lui è un pervertito ma lo dico la gente la gente che continua a difenderlo come se ci fosse quest'innocente in carcere veramente mi chiedo ma da dove ma forse manco sua sorella lo crede più un innocente in carcere sua moglie invece c'è gente che si ammazza la vita così scusate poi mi parte l'embolo capite non è vero c'è una narrazione sbagliata che racconta che lui è in carcere solo per questo dna che tra l'altro è anomalo ma non è anomalo assolutamente nulla ora Giovanni ve lo rispiega ma ci sono veramente una serie di indizi che lo portano lì è stato lui è stato lui è proprio così è proprio così tra l'altro lui era lì aveva litigato con la moglie e quindi era in una settimana particolare perché lui aveva litigato con la moglie quindi lui era in una settimana forse un po' particolare quel pomeriggio stranamente non va al lavoro quindi lui dalle due e mezza più o meno non si sa che cosa abbia fatto e si ritira la sera e poi quando l'arrestano ragazzi io veramente chi è che dice no vabbè ma voi vi mettono le manette ma cosa state facendo ma poi vogliamo parlare della cosa bella cioè della cosa bella che io sono rimasto fuori dai panni no questi qua per quattro anni il dna di qua il dna di là io arrivo dopo quattro anni gli danno l'ergassolo vado a leggere le motivazioni non c'è una cavolo di consulenza di genetica cioè che la roba che stanno attaccando da anni in televisione vado lì non hanno depositato uno straccio di consulenza con la firma sotto di un genetista ma di che parliamo Giovanni ma non potevano chiedere un abbreviato condizionato ad una consulenza no non è che loro sapete che all'inizio facevano credere alla gente facevano credere alla gente ripeto ignorante scusate guardate qui Giulia mi facevano credere che il oddio mi sono persa perché per leggere sta cosa si l'avevo letta prima questa confermo anche in Emilia Romagna hanno giocato hanno giocato sull'ignoranza non perché sono ignoranti che non conoscono la materia ma sapete perché perché dicevano eh se chiedere l'abbreviato avrebbe significato eh ammettere ma non è vero l'abbreviato lo puoi fare anche senza confessione lo puoi fare con ti sbagli Ari per esempio in quel caso ti sbagli Ari non è vero le ricerche pornografiche non sono state smontate ce n'è una ce n'è una che è sicuro perché le altre le hanno smentite perché ti ho ripetuto la moglie ha cercato un po' di mettergli la pezza ma loro sono riuscite a trovarne perché sono state smontate perché io il computer a casa mi sta ascoltando Marina Baldi che è praticamente la più importante genetista italiana forense allora perché è stata del libro e sta dicendo che siamo bravissimi grazie perché è stata smontata perché lui aveva un figlio della stessa età di del aveva ha un figlio della stessa età di Yara all'epoca e quindi è chiaro che se c'erano delle ricerche come tredicenne poteva essere stato il figlio quindi per tutte le ricerche se c'erano la sera o potevano anche esserci la notte per carità però ti ripeto siccome è stata fatta questa obiezione ne hanno trovata una in quel giorno lui era a casa in malattia il figlio era a scuola a casa non c'era nessuno e quindi l'ha cercata lui quando vi dicono che questa storia delle ricerche è stata smontata mentono mentono e sanno di mentire mentono e sanno di mentire perché è scritto nella sentenza di Cassazione nero su bianco aspettate peraltro io ho fatto delle ricerche su di lui insomma sulle sue diciamo frequentazioni possiamo dire sessuali erano venute fuori delle belle poi dopo purtroppo sono cose che non si è riusciti a portare come prove perché era difficile trovare i testimoni dell'epoca ecco no allora Luca un incidente probatore in sede preliminare no no non l'hanno chiesto gli avvocati non l'hanno chiesto gli avvocati allora ve la spiego io questa cosa la famosa diciamo ricorsa in Cassazione che è stato fatto in cui veramente li hanno massacrati cioè proprio io mi sono un po' vergognata una delle diciamo motivazioni adotte era proprio quello che siccome loro avevano nel pensiero che fosse lui bisognava iscrivere nel registro gli indagati e quindi poi fare l'esame del DNA in 360 ogni incidente probatorio ovviamente la Cassazione scrive e quindi che facciamo per tutti i DNA che abbiamo esaminato iscriviamo tutta la gente nel nel registro gli indagati e facciamo il 360 a quell'epoca c'era un un fascicolo contro i gnoti e un fascicolo ancora aperto contro flicker quindi diciamo al limite poteva accepirla lui questa cosa cioè non non bossetti e non aveva alcun senso poi il discorso che non hanno analizzato i reperti che qualcun altro lo stava scrivendo ragazzi attenzione anche lì loro lo chiedono alla fine del processo cioè dopo che le hanno provate tutte detto sai che facciamo una cosa vogliamo analizzare anche noi i reperti alla fine del processo a dibattimento chiuso e lì siccome effettivamente come vi ho detto poco fa 75 volte è venuto fuori il dna di bossetti sulla comparazione col dna di tra ignoto 1 e bossetti è stata fatta due volte la prima volta quando il dna glielo prendono nel diciamo nel etilometro e la seconda volta lui si sottopone sì fatemelo quindi se tu l'avessi chiesto prima magari perché c'è anche un tempo processuale no l'avrebbe raccolto ma quando tu il dibattimento è chiuso dici ah vogliamo analizzare i reperti non c'è motivo e ti dicono di no e in questo la Cassazione ha dato ragione alla corte perché cioè tu ti fai il processo e alla fine dici ah vogliamo analizzare i reperti cioè perché cioè tu hai una strategia la porti avanti non è che stiamo lì a giocare come dice Giampiero Lago che è il comandante dei RIS di Parma una delle ultime interviste che mi ha rilasciato sempre su questa questione annosa dei reperti che costituirà peraltro l'appendice del nostro libro che sembra una telenovela e lui dice vabbè e che risultato può dare un'eventuale nuova analisi se non lo stesso che già abbiamo avuto nel mondo mondiale degli alieni forse che c'è un altro che c'era un altro con lui ma lui c'è il seguro eh non si scappa eh lo ripeto Mad no le ricerche pedopornografiche lui ha cercato ragazza tredicenne la difesa eccepito che sul sul computer non c'era materiale pedopornografico ma questo non vuol dire niente cioè i ragazzi io ho letto la sentenza prima oggi pomeriggio l'ho finita di leggere la seconda volta non parliamo di cose riportate cioè a parte Laura è stata presente in tribunale ve l'ha detto io no però mi sono riletta la sentenza di Cassazione quindi se ti dico che è accertato pedopornografiche è perché è così non me lo sto inventando anche perché dico ve lo sto dicendo qui non poi c'è un altro elemento che viene sempre sottovalutato ma io ci terrei a spiegarlo questa volta perché è un elemento diciamo di chimica analitica queste famose sferette seguiteci un attimino che ve lo faccio capire col cucchiaino che cos'è perché in realtà vado anche contro la mia amata genetica forense però in realtà quell'elemento delle sfere che tra poco capirete è un qualcosa che mi convince ancora di più del DNA se mi consentite perché che cosa è stata fatta queste sferette diciamo che sono come delle particelle di calcio ok che quindi sono solitamente riscontrabili negli ambienti di lavoro così e quant'altro ma sono anche un po' ovunque in qualsiasi tipo di ambiente quindi che cosa è stata fatta è stata fatta innanzitutto una ricerca allora partiamo che queste sferette sono state trovate sugli abiti di Iaro ok scusate non lo do per scontato e avevano una determinata concentrazione la concentrazione in chimica che cos'è è la quantità del materiale che tu vai a analizzare in una determinata superficie ok per essere un attimino chiare la concentrazione è stata calcolata anche in vari ambienti anche casuali che può essere la casa di Iara un ambiente che non c'entrava proprio con l'indagine con Iara e quant'altro nell'abitacolo del furgone di Bossetti in un'altra cosa che non mi ricordo dov'è ok guardate caso guardate che coincidenza questa chimica analini l'unica concentrazione comparabile quella presente sui vestiti di Iara era quella nell'abilacolo del furgone di Bossetti cioè quindi stiamo parlando di un qualcosa di analitico matematico quindi vi ripeto che cos'è la concentrazione in chimica è la quantità di queste particelle per superficie analizzata cioè per dire ci sono cento di particelle su un centimetro quadrato di tessuto ok questo tipo di comparazione è stato fatto tra gli abiti di Iara e il furgone di Bossetti dell'unico ambiente però dico è l'unico ambiente in cui la concentrazione era uguale negli altri no quindi non è un qualcosa di casuale cioè veramente è un dato scientifico scientifico e insuperabile secondo me cioè veramente qui i dubbi non ci possono essere sul DNA si sono dette tante chiacchiere tante incertezze questo mitocondriale che dicono essere scomparso in realtà ora vi spiego un attimino come funziona sarà difficile l'analisi di questo mitocondriale per come vi hanno spiegato prima Monica e Laura che cosa succede nel momento in cui il cadavere va incontro al processo di putrefazione perde una mole immane di liquidi ok quindi anche di sostanze biologiche che è normale che vadano a coprire il DNA mitocondriale che non è uguale a quello dei cromosomi e vi direte voi perché allora si è conservato il DNA mitonucleare no quello mitocondriale vi spiego perché innanzitutto il DNA mitocondriale è tantissimo cioè abbiamo centinaia centinaia di migliaia di copre per cellula ok secondo me guardate c'è anche questo fattore che non saprei se definirlo di vino o meno perché il DNA di Bossetti che è stato ritrovato nelle mutande che quindi sono fatte di tessuto e le alte temperature che si sono avute in quei giorni che mi sono andata a controllare hanno fatto sì che questo DNA riuscisse a resistere 90 giorni in quelle condizioni perché una parte era coperta ciò che mi porta a questo convincimento è un altro dato in dettaglio il processo di trasformazione cadaverica intercorso del corpo dell'arricola iara è un processo eterogeneo che vuol dire che era diversificato in più punti del corpo ok si parla anche di una parziale corificazione questa parziale corificazione avviene quando non il tessuto non è accessibile dall'ossigeno ok quindi secondo me visto che lì si è parlato anche di gelate va in quei giorni perché le temperature sono andate molto giù questo ha permesso di fissare il DNA su quel tessuto quindi paradossalmente che cosa vi sto dicendo in termini semplici che se il DNA forse non fosse stato rilasciato sulle mutande di iara ad oggi non l'avremmo trovato molto probabilmente per la serie di fenomeni ma è come se si fosse cristallizzato nella trama di quelle mutande ovviamente questa non è una certezza è un'ipotesi che faccio scientificamente e che secondo me sta in piedi perché poi il dato di fatto dimostra che quel DNA ha resistito e ritornando per rispondere sempre alla domanda che ci aveva fatto Giulia che non ho dimenticato del potenziale killer di iara che poi ha riversato il contenuto di questo profilattico col DNA di Bossetti ritrovato nel pattume presuppone di due constatazioni che devo fare innanzitutto è una persona nemica di Massimo Giuseppe Bossetti una persona che lo odiava tantissimo se invece poi è una persona del tutto estranea anche a Bossetti ma perché io non ho mai trovato un omicidio in cui devi andare a mettere delle tracce per depistare da te stesso cioè le tracce cercano di cancellarsi non di aggiungerne quindi poi anche a livello criminologico a meno che tu non sia un nemico di Massimo Giuseppe Bossetti vuoi che lui passi uguale alla sua vita non agisci in questa maniera qui e poi se vi ricordate l'aneddoto è commisso come ho detto prima quindi sul sangue solido non può andare a miscelare un'altra sostanza e diventa un'unica sostanza poi è meno omogenea ok chimicamente non accade leggo un attimino qualche domanda ma no allora io volevo rispondere intanto a chi è che ha scritto che non c'erano tracce di ghiera sul furgone non è così semplice lasciare tracce di DNA cioè al limite poteva lasciare un capello ma dopo tre mesi questo capello può anche essere volato lui aveva fatto dei lavori aspettate quello di Borsetti sono passati quattro anni aveva cambiato eh sì quattro anni e lui aveva cambiato ah e anche le fibre aveva cambiato addirittura lei nel vestito aveva al disegno del furgone della tappezzeria del furgone anche quello è stato considerato diciamo delle fibre compatibili compatibili e anche il disegno nel gins non è detto che siano quelli allora io volevo rispondere a una cosa in tonestà sulle fibre è l'unico dato che non mi convince e devo dire una cosa perché io voglio che le cose come stanno anche le valutazioni che ha fatto il consulente della difesa di Borsetti sulle fibre devo dire che le retro attendibili cioè abbiamo a che fare con una persona che ha fatto diciamo in scienza e coscienza il proprio lavoro su questo mi sento di dire perché devo dar Cesare a quel che dice Cesare ho criticato non mi ricordo come si chiamava neanche io ricordo però ho fatto delle valutazioni che ci sono quindi si parla di compatibilità di fibre io volevo dire una cosa qualcuno ha detto ma come mai secondo voi questa allora l'ho trovata Giulia si posso rispondere io perché ho fatto un seminario proprio basato su questo sulla comunicazione del crimine allora la narrazione che è stata data appunto di quel processo e di quei fatti è veramente quanto mai assurda perché primo come vi ho detto è stato detto che la difesa non ha potuto diciamo esprimersi al massimo solamente perché non c'erano le telecamere all'interno e non è assolutamente vero ripeto perché non solo c'eravamo noi tanti giornalisti tanti tutti i giorni ma c'erano anche c'era un sacco di gente del pubblico le telecamere erano fuori e loro loro facevano una cosa che io non ho mai visto fare in nessun processo ma nemmeno americano cioè alla conclusione dell'udienza il venerdì loro andavano in televisione non dico in quale trasmissione perché non voglio fare pubblicità questo è assolutamente distonico distopico fuorviante come possiamo dire no? perché ovviamente in questa trasmissione non andava l'accusa la procura ovviamente se ne guardavano bene e con i giudici ma andavano loro e non si è mai visto una cosa del genere quindi loro si hanno l'unica cosa in cui sono stati bravi è stata proprio fare casino mettere il dubbio dove il dubbio non c'era perché appunto sarebbe stato poco interessante da molti punti di vista la signora marita è andata a farsi intervistare a suon di 25.000 a botta e questo è venuto fuori nel processo per cui io posso dirlo è stato cioè è venuto fuori nel processo è stato detto quindi non mi sembra che ci sia stata da quella parte una comunicazione corretta ecco invece quella della procura è stata corretta anche se poi siccome quel famoso documentario di Sky tra l'altro fatto benissimo da un giornalista della BBC che ha seguito tutte le udienze del processo e veniva da Londra io l'ho conosciuto quel documentario è venuto fuori dopo il primo grado quindi lì si sono arrabbiati un po' i giudici perché hanno detto no vabbè forse era meglio dopo la Cassazione dopo il terzo grado in Italia è stato molto importante però ci stavano massacrando con la difesa di Bossetti cioè ha messo in punto nel secondo grado il secondo grado voi sapete è molto più veloce si basa più sulle carte ci sono meno testimoni cioè comunque loro non hanno portato nulla di nuovo assolutamente nulla e per questo è stato confermato e così il terzo grado allora io volevo rispondere tentano una revisione ma no ma non c'è motivo ma non puoi tentarla sulle cose vecchie la devi tentare su cose nuove io volevo rispondere un attimo a cosa secondo me al di là di questo della comunicazione che hanno fatto loro c'è anche un altro aspetto che è molto importante cioè voi immaginate Bossetti no non vi dico un bell'uomo perché non è il mio tipo però dico un uomo normale con tre figli una bella moglie una casa un impiegato tranquillo che non aveva mai dato l'adito diciamo a questo cioè a pensare male no lo chiamava nel favola perché era un po' così ce l'ha la faccia del bravo ragazzo non è che e quindi insomma lui è il mostro della porta accanto cioè c'è un po' di riluttanza proprio perché se lo fa lui te lo puoi aspettare da chiunque e forse oggi con tutto quello che si sente siamo un po' più propensi a a pensare che il mostro della porta accanto esiste sul serio no ma noi stiamo parlando comunque di quasi dieci anni fa vabbè l'arresto nel 2014 quindi quattro anni dopo stiamo parlando di quattordici anni fa non era proprio cioè adesso c'è stato il precedente capisci già farebbe strano se succedesse un'altra volta perché insomma parliamo di una ragazzina no però immaginate l'impatto mediatico che ha avuto quindi a volte la gente preferisce pensare davvero che il mostro sia un altro che ci sia un errore perché è capitato a loro pensano che può capitare in qualunque famiglia e in effetti è la verità perché comunque però su questo posso dire una cosa era così comodo no Ficri era comodissimo esatto che proprio vogliamo utilizzare il luogo comune l'extracomunitario il mostro quelli che vengono qui per ammazzare violentare rubare stuprare scusate però purtroppo è il dato di fatto la dico così era perfetto lui no stava pure scappando diceva no quindi veramente era in fuga quindi era perfetto era proprio tutto bene ragazzi cioè lui era pure minuto interlino e trovare un uomo innocente padre Fagini che comunque c'era l'idea che era anche un gran lavoratore ok quindi doveva andare a disturbare quest'uomo dopo quattro anni non sta in piedi come dici tu questa teoria di era comodissimo quello che era venuto fuori nelle prime settimane cioè se innocente ma l'abbiamo detto subito ma lui ancora di più cioè tre figli cioè piuttosto beh è chiaro no cioè quando tu hai tre ragazzi da proteggere a casa non puoi confessare di aver fatto un delitto del genere quindi era chiaro che non avrebbe mai confessato quello che un po' mi stranizza è che però per quanto diciamo la gente abbia subito pensato no non è possibile non è bossetti e la moglie dubbi ce li ha perché gli chiede il cognato il fratello non gli danno un alibi cioè anzi non rispondono non l'ho visto perché lui dice di aver salutato qualcuno e lo negano quindi sai forse qualche segno magari l'aveva dato perché sì la moglie l'ha difeso ma secondo me l'ha sempre difeso perché doveva difendere la sua famiglia i suoi figli non tanto lui infatti adesso non credo che che lo vada più a trovare insomma anche perché lui poi e beh però con tutto quello che è uscito fuori con l'amante la fidanzata la compagna insomma si è dato da fare un po' mentre era in carcere sì ragazzi posso dire un'altra cosa di cui mi assumo le responsabilità ora te la spiego io che cosa è successo cioè il fatto che loro chiedano questa controperizia ma l'ha anch'essa dopo a fine dei giochi come vi ha detto Monica è tutta una roba calcolata male perché se all'inizio quando viene fatto il matching e dicono ok il tuo assistito risulta compatibile lì lì bisognava dire alt prima di fare rinvia giudizi processi e quant'altro confrontiamolo in nuovo non è stato fatto perché perché c'era il rischio che effettivamente fosse compatibile fine dei giochi si arrivava veloce veloce ricordiamoci ripeto quello che ha detto all'inizio che c'era un altro avvocato che poi si è ritirata probabilmente anche litigato e che non ha mai detto il motivo però beh ma lei ci stava provando no il primo avvocato ci provava a dire delle pistassi che magari del taglierino che gli era stato rubato perché sapeva che il primo avvocato sapeva che quel dato non poteva essere diciamo contestato quindi ha provato a cercare delle strade alternative Marina Baldi avvocato Gazzetti veramente in gamba sì tanto in gamba che se n'è andata se n'è andata non ha voluto mai dirmi perché adesso vediamo se quando presenteremo il libro lo invitiamo vediamo allora il problema che voi dovete capire no? che la genetica forense è una materia che effettivamente poi va letta su quelli che sono gli elettroferrogrammi che sono gli stati su queste carte no? quindi alla fine se non riesce a contestare quello che già sta fatto dalle carte è inutile poi rianalizzare magari anche altri reperti e ve la dico qui che è una cosa molto complicata da capire per chi non ha mai visto un elettroferrogrammo ok? prendiamo in considerazione le altre parti della griglia perché magari le tracce G19 G20 sono finite ok? dobbiamo analizzare altre cose andiamo di nuovo quindi su quei campioni che vi ho spiegato prima che erano anche parzialmente degradati non davano il profilo completo però vi faccio una domanda visto che un pochino di genetica l'abbia fatta mezz'ora fa se io vado a prendere quei punti degradati e guardate caso facciamo finta che sia la metà del quantitativo di DNA rispetto al G19 G20 e mi rispondono però tutti i marcatori su quella metà quindi io me ne trovo 10 sui 10 potenziali che posso leggere va a finire ancora peggio c'è nel senso che ho una conferma ulteriore che quel DNA sia di bossetti quindi poi c'è anche prima di magari fare questa perizia che non serve perché non serve perché non va a smontare quello che è stato fatto prima non è che quello di prima viene diverso ma perché è diversa la campionatura perciò si parla di accertamento irripetibile nella genetica l'irripetibilità è dovuta già al momento in cui tu vai a cambiare il reperto quando già stai estraendo la traccia ok leggere un altro tipo di campione da ovviamente le letture diverse quindi poi si dovrebbe fare una premessa dire ok che cosa si aspetti di trovare come intorspeterai quello che viene fuori gli viene fuori un problema ma un problema nel senso che non come fai a gettare il dato precedente mica vuol dire che non si avvieno no vuol dire che purtroppo ragazzi è la natura che funziona così non è che la traccia si distribuisce per essere letta da noi un qualcosa di casuale e noi abbiamo avuto ripeto la fortuna di trovarla quella traccia per intero ed anche abbondante quindi potremmo anche non averla avuta andare a leggere un qualche altra cosa poi adesso spendiamo un attimino una parola su questa questione di questi reperti di strutture prima voglio rispondere a questa cosa però e vai rispondi rispondi no dove era ho sbagliato commento allora ragazzi torniamo diciamo a questa cosa l'ho detta poco fa la rispiego voi immaginate no se tutte le sentenze passate in giudicato l'imputato un giorno si sveglia e dice rifacciamo questa analisi perché io sono innocente non ce ne usciamo più allora loro hanno chiesto di fare questo esame alla fine del dibattimento che vuol dire che si è processato si è fatto un processo si è celebrato questo dibattimento dove si sono sentite tutti i testimoni consulenti quindi sei alla chiusura e tu dici no sai rianalizzi i reperti quando tu per un dibattimento sull'analisi dei reperti non hai detto bizze ok si chiude questo processo si chiude il secondo grado loro fanno il ricorso in Cassazione e il ricorso in Cassazione lo ricordo per chi non lo sa non risponde nel merito del processo né sull'interpretazione che ha dato il giudice a meno che non ci sia che il giudice scrive invece di dover scrivere A scrive B che ne so sbaglia il nome della della persona insomma delle cose eclatanti la Cassazione non risponde del merito ma della legittimità ovvero se il processo è stato fatto bene la richiesta di ricorso in Cassazione che hanno presentato gli avvocati è stato di almeno 500 pagine una cosa che anche i giudici si sono messi ma nei capelli allora l'hanno letto e l'hanno diciamo analizzato perché era un processo mediatico e quindi andava fatto perché se l'avesse fatto chiunque altro con 500 pagine di copy and call e di cose l'avrebbero preso e l'avrebbero messo nel cestino questo lo dico diciamo perché comunque non è che possiamo rimettere la Cassazione e è chiaro come lo devi fare il ricorso allora siccome effettivamente il problema è legittimità loro hanno presentato un sacco di punti che si ripetevano sempre fondamentalmente loro volevano buttare giù l'esame del DNA ma mica che non l'avevano praticamente lo volevano rianalizzare no loro volevano che la prova non fosse stata considerata valida perché l'accertamento doveva essere fatto in 360 che vuol dire con l'incidente probatorio ovvero loro non dovevano prelevare il DNA di Bossetti dovevano mettere Bossetti come indagato quindi dargli a lui l'avviso prelevare il DNA e fare l'esame del DNA su questa storia ci sono tornati tipo in 200 pagine tolto questo sapete dove si sono appellati che praticamente la procura non aveva fatto la richiesta di proroga delle indagini e quindi visto che non aveva fatto la proroga delle indagini vuol dire che quel processo non era valido c'era una nullità e quindi dovevano annullare tutte cose cioè loro non hanno cercato di tirare fuori i Bossetti perché era innocente perché quel DNA non era suo e tutto quanto loro hanno cercato in vano di smontare un processo dal punto di vista giuridico inventandosi delle cose che non stavano né in cielo né in terra perché anche questa storia della proroga delle indagini quando non c'è un indagato non c'era alcun vincolo alla fine delle 500 pagine ci infilano dentro questa storia del fatto che volevano rianalizzare i reperti e non hanno avuto accesso ai reperti ora intanto l'accesso ai reperti non è detto che il giudice sia obbligato a concederlo alle parti però ripeto l'avesse chiesta all'inizio quando tu devi impostare la strategia difensiva aveva un suo senso ma quando tu l'hai provata tutta e dici ah ma sai facciamo questo tu stai facendo perdere tempo al giudice che oggettivamente si è già fatto un'idea a processo perché il giudice si poteva anche guardare la televisione ma non conosceva le carte del PM non conosceva l'indagine il giudice davanti al quale la corte d'assise davanti alla quale si celebra il processo non conosceva assolutamente tutto quello che era stato fatto tutto quello che è stato fatto lo conosce nel momento in cui viene portato quindi quando si è fatto un'idea e tutto questo è stato ampiamente discusso è durato un'eternità consulenti a destra consulenti Laura ve lo potrà dire perché era presente tu ti presenti chiedi eh no però dobbiamo analizzare i reperti di che stiamo parlando quindi la Cassazione glielo ripete cioè non c'era motivo tra l'altro ripeto la traccia biologica lasciata era molto consistente non c'erano dubbi il DNA è stato replicato ed è uscito 75 volte non in un in un laboratorio in tre il laboratorio e la Cassazione lo dice non può esserci neanche il problema della contaminazione esterna perché loro non solo sapevano chi era ignoto uno se volevano trovare un perché loro dicono ah volevano trovare uno ma lo potevano trovare quattro anni prima cioè lo trovavano subito l'avevano preso a freak quindi cioè non è che ma non sta in piedi non sta assolutamente in piedi e la Cassazione lo dice vorrei che Giovanni ci ricordasse quali probabilità ci sono di trovare un altro borsetti assolutamente 7 miliardi di mondi con 7 miliardi di persone 7 miliardi di persone adesso siamo sui 10 miliardi quindi supera la popolazione mondiale perché è un calcolo matematico statistico che viene utilizzato appunto in genetica forense per aumentare diciamo la popolazione abbassare la probabilità che due soggetti abbiano il dna uguale qualora dovessimo arrivare a questo numero ok di 10 miliardi perché forse magari stiamo aumentando ok che cosa si fa ragazzi si aggiunge un altro marcatore per aumentare la moltiplicazione a livello esponenziale crescono i numeri quindi la probabilità diventerà per dirvi che solo un soggetto su 30 miliardi potrà avere quelle caratteristiche genetiche per caratteristiche genetiche adesso riuscite a seguirmi un po' di più che cosa intendo intendo che le zone il matching che hanno quindi determinate sequenze determinate caratteristiche determinate ripetizioni ovviamente vengono ereditate in una certa maniera ok quindi i marcatori che noi andiamo a guardare in ogni soggetto sono unici a parte i gemelli omozigoti almeno finché si parla di genetica poi adesso esiste una nuova frontiera epigenetica perché esistono anche delle morifiche chimiche sul dna che addirittura potrebbero farci trovare una distinzione anche nei gemelli omozigoti addirittura se vogliamo andare per il sottile però per dirvi che è impossibile che ci sia un errore di questa portata quando i marcatori che erano 21 nelle prime due sentenze ma poi andano a leggere i kit utilizzati perché ho visto nella sentenza di Cassazione vengono riportati alla fine c'è un kit di 28 marcatori di cui 24 hanno risposto 24 marcatori su 28 cioè tutti in pratica tutti e poi vai a prendere uno che è giusto abitarli a vicino che è passata da quel furgone che non c'ha un alibi quella sera strane coincidenze cioè proprio me lo dicono e poi di là abita lì ma vai cioè lo screen non sono indizi nel mondo mondiale nel mondo mondiale cioè praticamente non esiste uno su 7 miliardi di mondi con 7 miliardi di persone che ha lo stesso dna suo ora gli avvocati a cosa si possono appellare? agli alieni secondo me agli alieni solo agli alieni ma sappiamo che gli alieni non esistono non è che uno non vuole prendere rispetto ragazzi però cioè se voi guardate diciamo il servizio che ha confezionato gli alieni davvero cioè veramente tu dici ma come si fa però rileggiamo un attimo prende in giro le persone rileggiamo questo dato ok dell'analisi del dna se fosse stato un errore ok ma qual era poi la probabilità di fare un errore commette un errore e trovare un soggetto che guarda caso a una localizzazione geografica prossima a quella della vittima con una serie di altri elementi precisi concordanti tra di loro un errore avrebbe riportato magari il dna di qualcuno che veramente potenzialmente poteva abitare su Marte per dirvi cioè una coincidenza del genere non c'è niente in terra l'alternativa è che l'hanno incastrato cioè diciamolo chiaramente perché per dire le alternative illusorie di questi che dicono che hanno creato il DNA di Israele ma queste cose ci sono nei romanzi thriller americani nemmeno in quelli italiani in quelli americani e non c'è niente in terra non c'è niente niente in terra che si mettano a prendere un soggetto X ripeto padre di famiglia lavoratore incastriamo a quello così ma è proprio brutto da pensare non fatevi sentire perché a parte che è un'accusa gravissima però proprio per un po' di dignità di voi stessi che seguirà poi la diretta però ragazzi allora dimentichiamoci tutto pensiamo pensiamo il cattivone che ha ucciso Iara e che si è portato dietro il DNA di Bossetti raggiungiamo per assurdo e vogliamo pensare a una cosa del genere ragazzi ma voi spiegatemi veramente cioè arrivano i carabinieri tu scappi perché pensi che perché lavori in nero ti pigliano ti ammalettano cioè non è che ti chiedono i documenti ti ammalettano e tu ti metti fai a ammalettare e non dici una parola perché che state facendo zero cioè come la volete spiegare questa la mancanza del DNA mitocondriale la mancanza del DNA mitocondriale non è un dato importante come dice è un DNA anomalo assolutamente no la 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 traccia ve l'ha spiegato poco fa Giovanni era mista quindi la componente mitocondriale è quella che diciamo quando la traccia è mista Giovanni aiutami svanisce prima cioè a meno senso è stata coperta perché esatto voi potete immaginare il quantitativo che può lasciare un offender sulla vittima e il quantitativo della vittima che ho detto che perde tutti i propri liquidi essendo abbondante è normale che si sia persa e poi diciamo nel caso di Bossetti inizialmente proprio questa abbondanza del DNA di Yara ha creato un un errore ok quindi quando andavano a cercare il suo mitocondriale in realtà stavano comparando il DNA di Yara per cercare le le madri insomma perché il DNA mitocondriale è quello che si eredita per materialità cioè significa che viene ereditato dalla madre ok innanzitutto non si utilizza per l'identificazione dei soggetti ma solo per restringere un range perché perché non è identificativo perché tutti i figli di una stessa madre hanno lo stesso DNA mitocondriale quindi anche i figli cugini di due zii e sorelle tra di loro avranno lo stesso DNA mitocondriale infatti ai fini della genetica forense i protocolli anche che si atto in laboratorio sono diciamo perfezionati per il nucleare perché è l'unico identificativo quindi in realtà il DNA mitocondriale si utilizza in altri contesti o quando il DNA nucleare degradava nel caso di Bossetti giusto si siamo trovati a parlarne per un motivo perché visto che il range di ricerca era amplissimo cioè si parla veramente della bergamasca per far più veloce sono andate a cercare le donne per restringere il campo delle unità familiari ok a un certo punto non ne venne uno fuori perché era stato fatto questo matching sbagliato del DNA mitocondriale bene quindi la studentessa lì del laboratorio di Prevedere ha un'illuminazione che c'era dall'Ele Raro 26 lì si ricorda che due donne hanno quella dell'Ele Raro nella zona di controllo manca a farla apposta hanno lo stesso cognome ma non sono imparentate lì una delle due però poteva essere compatibile perché abbiamo detto aveva questi tre figli di cui due uomini e Laura Letizia che è la gemella proprio di Massimo Giuseppe Bossetti perché ricordiamo sono gemelli ok poi un altro dato che ci siamo dimenticati da dire è il fatto che comunque Iara aveva della calce dei residui di eh le sferette diciamo le sferette che dico io e quindi diciamo anche quello è un indizio abbastanza importante che è stato valutato è per me importantissimo perché riconducibile all'attività edili come l'ha detto e poi la concentrazione è lì altra domanda ci arriva allora non si tratta di liquido seminale giusto allora non si è riuscito a dire perché che cosa è successo l'unica risposta che si è avuta di quel test è del sangue potenzialmente perché ce n'era tantissime quindi probabilmente ha coperto la proteina che si va a ricercare quando fa il test di liquido seminale ok quindi poteva essere anche liquido seminale però non si può dire la natura della traccia perché ha risposto solo il sangue ovviamente non si può dire neanche che sia sangue proprio dell'offendere perché si è ferito perché secondo me è solo sangue di Iara che ha coperto tutto il resto perché immaginate l'abbondanza di sangue ripeto della vittima su una traccia esigua rispetto al contesto è sicuramente stato coperto e non è stato possibile a parte che tenete conto che questo test che viene fatto per individuare la natura della traccia viene fatto su specifiche proteine soprattutto quelle del liquido seminale e l'emettività di una proteina in determinate condizioni magari non è la stessa di quel DNA che è riuscito ad infilarsi bene nei tessuti quindi magari proprio per quel motivo da qui non si può dire che si tratti di liquido seminale l'unica cosa che possiamo accertare è che era un materiale altamente cellularizzato su questo abbiamo una certezza assoluta che vuol dire che c'erano tante cellule di quel materiale quindi potenzialmente in linea di logica anche se non ha subito una vera e propria violenza sessuale e secondo me si è frenato anche perché diciamolo Iara è stata trovata con il suo ciclo mestruale quindi può darsi che anche potenzialmente non si sia arrivati all'atto per quello e però magari potrebbe aver avuto un'eiaculazione e quindi si è però non ci sono dati scientifici per affermare ciò l'unica risposta che si è avuta è sangue pensare a un preservativo diciamo svuotato cioè chi è che gli doveva sottrarre un preservativo qualcuno che lo seguiva mentre lui andava a fare sesso con un amante o qualcuno che ha pagato diciamo una donna per cioè perché si cade definitivamente è una cosa diciamo fuori dal dal normale a livello proprio termodinamico di chimica fisica non può avvenire la commissione di una cosa che è solida no? cioè il sangue è solido e questo liquido cioè non riescono a miscelarsi bene bene la commissione avviene ma lo so che non lo pensi tu sei fatto domande diciamo più concrete dico non pensavo che tu pensassi di una cosa del genere però lo so che ne sono state lette di tante però ragazzi se fosse stato se fosse stato diciamo ma che parliamo di BDN che è marino allora ragazzi se fosse stato il DNA di Bossetti trovato da un'altra parte avremmo potuto pensare perché comunque oggi io mi tocca il naso domani tocco lei abitavano nella stessa zona certo magari cioè il dubbio poteva anche venire no? ma dentro le mutande insomma cioè qua si tratta veramente poi tra l'altro questo lo affrontiamo tanto nel libro perché insomma ci hanno perso un po' di udienza su queste cose questa benedetta calunnia diciamo c'è la propria sì nei confronti una persona dei difensori della dell'insegnante perché appunto c'era un po' del DNA sul giubbotto peraltro il giubbotto che era appartenente con la cugina anche quindi ma scusatemi se mi trovano il DNA di Brad Pitt la giacca fortunata vuol dire che poi se me lo trovano sulle mutande è diverso quindi chi se ne frega che c'è il DNA dell'insegnante sulla giacca quando poi si toccano Marina ci dice una cosa io non credo di averlo letto nella sentenza però che se non sbaglio il DNA di Bossetti era anche all'interno della ferita del gluteo io non lo ricordo però dopo vado vado a vedere questo io non me lo ricordo beh di sicuro era contestuale ai tagli quindi è interessante anche questo era contestuale ai tagli per cui questo era per rispondere non so se avete visto che è stato poi condannata all'ergassolo primo secondo terzo grado quindi tutti e tre i gradi per rispondere alla domanda di Francesca le revisioni in maniera definitiva nel novembre 2018 l'ergassolo anche perché abbia spiegato più volte in che termini si richiede la revisione qui i presupposti non ci sono apriamo un attimino la parentesi sul post ok di quello che è successo che ha fatto un attimino di esplodere come è sempre il caso ma abituatevi perché ogni anno ne verrà fuori qualcuna da questo sì non si arrendono purtroppo quindi che cosa è successo adesso urlano al depistaggio quant'altro ma già in linea di termini il presupposto è sbagliato perché il depistaggio se proprio si deve attuare si attua prima delle indagini non dopo qua si sta parlando di una cattiva conservazione dei reperti dopo magari distruzione di altre eventuali parti dopo cioè siamo oltre la corte di cassazione il depistaggio se proprio uno deve farlo lo fanno in fase di indagine ok quindi già proprio affibbiare questo nomignolo in questa fase qui col processo chiuso non ha proprio motivo da esistere innanzitutto poi ovviamente qui si accende il riflettore su questo fatto di bossetti ma in quali altri casi si chiude il caso e si distrugge tutto si fa infatti si fa diciamo che mi sembra che ogni punto è vero che è successo che abbiano distrutto dei reperti ma dopo tanti anni li diamacchi perché dovevano fare spazio cioè lo fanno con imperizio molti si perdono poi nei meandri delle altre volte si perdono ma non credo che per quello vada non c'è più altri ci sono altri ci sono infatti lì li stanno esaminando per un eventuale ci stanno chiedendo di risaminare ma lì si possono risaminare perché non sono mai stati esaminati cioè tipo c'è un mozzicone di sigaretta c'è insomma c'è qualcosa un capello che era sulla felpa di Yousef eccetera quindi lì diciamo c'è qualcosa che si potrebbe anche ma qui cosa vuoi risaminare cioè appunto perché non è mai stato fatto qui non puoi cioè in sedi di revisione tu non puoi chiedere di rifare una cosa cioè quindi ti appelli ad una prova che già era prova no allora mi devi venire a dire due sono i fatti o c'è l'alieno o Yara si è svegliata e ti è venuto in sogno e ti ha detto che è stato veramente che non è stato lui oppure che lui confessi e dica la verità basta che poi c'è una contraddizione in linea dei termini no perché se c'è questa sfiducia nell'analisi del DNA che non è certo perché richiedere lo stesso accertamente su un altro su un altro campione voglio dire no se se quel campione non è buono perché manca del mitocondrial manca pure negli altri reperti quindi è una contraddizione proprio in linea di termini vorrei richiedere un qualcosa e resta proprio sempre la mia domanda solita che faccio li faccio prima o poi mi risponderà perché non è stato fatto l'incidente probatorio uno quindi chissà appunto avremo mai questa risposta e poi un eventuale diciamo accertamento che destino farà avere gli accertamenti precedenti cioè le analisi che sono state fatte per il processo che fine fanno la 17 della sentenza era nel taglio infatti ricordavo che era contestuale al taglio sì sì poi la traccia quella fondamentale più abbondante era la 31 G20 però effettivamente è vero era anche lì grazie Marina quindi immaginate voi di cosa abbiamo parlato ora qualcuno ovviamente aveva tanti dubbi sul fatto della permanenza del corpo ragazzi comunque delle spiegazioni bene o male le abbiamo date voi dovete anche mettervi nelle linee reali no del contesto ma voi vivete no io vivo da qualche anno qui in Lombardia ma a me non viene da novembre a febbraio andarmi a fare il giro sul lungo polo non so voi perché si gela fa un cavolo di freddo cioè andarmi a mettere al centro del campo di Chignolo mese dicembre e gennaio secondo me non è anche questa cosa normale a meno che tu non abbia il campo di Chignolo il giorno era pieno di fango lui disse che il campo era impallicciato ha detto alla moglie era impallicciato sì parla anche del campo di Chignolo cioè lui comunque fa degli errori grossolani quando intercettazione ambientale parla di quel giorno e anche la moglie che lo mette in dubbio ragazzi non è diciamo molto è strano calzavala inizialmente sì sì quel campo lì ovviamente poi gli arbusti abbiamo detto ripeto che c'erano se cercate anche delle immagini vedete poi voi dovete mettere un attimino anche nell'ottica che ripeto sono state fatte delle videoriprese dalla videoripresa finché non ti avvicini ad un metro e mezzo Yara non si vedeva sembrava tipo come una specie di bus alla spazzatura e non si vedeva ad un metro e mezzo figuratevi dall'alto con gli elicotteri e tutto quello che volete gli arbusti erano scuri io questo lo devo dire però eh eh dillo abbiamo i cani che vanno a prendere la gente sotto le macerie cioè comunque qualcosa che non funziona nella ricerca di di vivi e morti in Italia ce l'abbiamo è vero che non si vedeva però eh ma perché non hanno fatto quella cosa a griglia e poi i cani cioè qualche cosa diciamo se dobbiamo mettere qualcosa nelle indagini che non ha funzionato perché poi è stata un'indagine ragazzi che ce la invidiano tutti la studiano all'estero anche negli stati uniti d'America l'indagine diciamo genetica top però c'è no le ricerche hai ragione infatti sulle ricerche ragazzi siamo veramente messi malissimi io sarò visto male uno degli alpini che l'aveva cercata è morto di crepa cuore quando l'hanno esatto poco fa parlava di Saman non è possibile siamo passati così tante volte l'intorno e non abbiamo mai visto neanche ma è possibile e anche i cani io ho parlato con esperti di questi cani è difficilissimo che i cani cioè è facile che vengano distolti non è facile che i cani trovino l'abbiamo detto anche nella puntata di Saman che cosa pensavo diciamo di questi tipi di ricerche che sono complicate cioè lungi da me criticare però scusatemi però scusatemi abbiamo visto che in tanti casi ritrovamenti nonostante il spendo di forze energie squadre specializzate viene fatto quasi sempre casualmente però c'è andata l'idea quello che dico io no è vero che era incolto di tutto quello che vuoi intanto era un terreno incolto lo pulivi se volevi cercare qualcuno là perché ragazzi c'era la discoteca vicina cioè lei poteva perché tra l'altro non sappiamo dopo quanto è morta lunga agonia lasciamola lì però tu immagina cioè nella Bergamasca dove è stata cercata tu immagina fare tutto questo lavoro per ogni area ma non era distante Gianni non era distante 10-11 km a fare tutti questi campi tutte queste cose fare tutto quanto con la stessa dovizia di particolari e l'impresa ti capi ma li pulisci che ci sei i campi cioè che poi nel raggio scusami nel raggio degli 11-12 km ma tu non sai dove allontanarti che tu non sai sta ragazzina dove è arrivata sa niente capito cioè tu vorresti cercare anche dall'altra parte eh potrebbe essere anche dall'altra parte della Lombardia scusami io ti faccio un altro esempio che abbiamo studiato praticamente di recente al master no Raniero Busco è stato assolto per l'omicidio di Simonetta Cesaroni il suo DNA era sul corpetto è vero è che era il fidanzato però in primo grado l'avevano condannato mi pare è stato assolto dopo quindi non è che la prova il DNA da solo basta cioè ragazzi parliamoci chiaro se trovano il DNA di Bossetti anche sulle mutande no ma Bossetti era a Palermo infatti ok lo potevano replicare cento volte poteva venire il risultato novantanove ma se lui era a Palermo e c'aveva un alibi di ferro con un biglietto aereo quello che vuoi cioè non è che lo arrestavano perché ci siamo in divenire in tutto come fosse stato possibile ritrovare il DNA però magari potenzialmente però vorrei davvero cioè in chiusura vorrei dire questa cosa ripetiamo su questo dato logico cioè semplicemente di logica di pura intelligenza cioè noi troviamo un cadavere troviamo ripeto una traccia una firma una firma sul slip e sui leggings contestuali ad un taglio ok di una bambina di 13 anni che non conosce uomo e la firma è di un ignoto partiamo da quell'ignoto e andiamo a ritroso non è il contrario ecco perché ecco perché è incontrovertibile questo dato semplicemente per questa logica pura logica pura logica corroborata da stupende perfette analisi scientifiche e poi dagli gravi concordanti e altri indizi che abbiamo basta basta solo questo bastava chiudere tutto è ovvio che poi dopo invece se la vuoi buttare in cacciara e vuoi andare avanti per anni facendo leva sulla schiera non vi dico i personaggi che popolavano quell'aula comunque leggetevi il libro c'è una descrizione alquanto dedicato un capitolo a parte sui personaggi ma la stessa logica perché non viene applicata sempre ma non è sempre così e chi c'entra non è che sempre trovi il allora io trovo chiara Poggi sulle scale in quelle condizioni eh cioè e trovo il dna di lui sul 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 come si chiama il sapone cioè lui era il fidanzato è ovvio che indago lui prima di tutti e poi hanno trovato altre cose ma qui trovo un nessuno un signor nessuno esatto ignoto cioè lì con Stasi se la potevano anche discutere no cioè è stato molto più difficile allora allora vi faccio un esempio no è un po' come la storia della della Resinovic no tutti quanti il 14 è morto il 5 è morto è poi sbatti la faccia davanti alla alla relazione che dice che è morto il 5 gennaio la scienza non sbaglia ma perfino la procura dice sembra che sia uscita per andarsi ad ammazzare poi c'è un buco cioè non è che si sono inventate le favole ti hanno alzato le mani e hanno detto non lo sappiamo che è successo dopo non c'è un reato non c'è un reato e il dato scientifico dice questo il dato logico ne dice un altro alziamo le mani cioè non è che siccome il dato scientifico dice così ci hanno costruito sopra un castello e hanno detto no sicuramente ha fatto ha detto i dati ti portano perché Liliana esce di casa se ne va senza nulla sembra che esca per andarsi a suicidare per quello che pensano loro però poi sembra risucchiata dagli alieni sembra che entra in un buco temporale se ne va nel metaverso e ricompare morta 15 giorni dopo ora questo lo sto dicendo io chiaramente non è così però non è che tu dipingi sopra il dato scientifico altri dati e fai ipotesi non gliene frega nulla loro non vedono il reato dicono sì effettivamente le cose stanno in questo modo poi la consulenza ha detto questo cosa è successo io non lo so reato non ce n'è cioè non è che sono andati avanti per cercare un colpevole e non è che perché la signora è anziana e io avevo 13 anni perché se ne vogliamo discutere se ne è parlato così tanto la scienza dice qualcosa ma da sola da sola non basta è difficile è un caso difficile è difficilissimo perché possono essere Marina eccola qui ci riusciremo a dimostrare l'omicidio vedi non è che perché il dato scientifico dice una cosa uno si ferma anche perché in questo caso non ci sono più altri elementi perché gli elementi ti portano dall'altra parte ma serve la logica cioè servono tutta una serie Bossetti non c'aveva niente dalla sua parte ma proprio niente da cominciare dall'alibi che non ce l'aveva dalla fiducia della sua famiglia che non ce l'aveva manco quella perché un alibi non gliel'ha fornita nessuno era nella madre che ha detto che si è inseminata vabbè gli ha dato i dubbi è venuto perché poi dite un a caso un a caso che era nato pure da l'infedeltà della madre insomma ragazzi capitava è stato proprio sfigato possiamo un attimo rispondere non voglio che vadano via con questo dubbio no no esatto c'erano altri ignoti ok quindi c'erano altri dna ma come vi ha detto Laura all'inizio si sono accesi i riflettori sulle mutande che sono un punto investigativo interessante cioè trovare degli altri dna sull'esterno del giubbetto tipo sulle maniche quant'altro possono essere anche dei dna trasferiti perché ha frequentato certi ambienti certe cose quindi c'erano degli altri dna ignoti ma ce n'erano anche un bel po' ok il problema che non avevano un interesse investigativo come quello di un dna trovato in una parte intima altamente cellularizzato di uno sconosciuto poi individuato perché già si diceva beh ha avuto anche contatti con staiara se la poteva inventare da qualunque ma qui si parla di uno sconosciuto che deposita il proprio fluido biologico altamente cellularizzato lì nelle mutandine tra i leggings c'è un luogo delicato no perché avere accesso al taglio che è stato fatto perché è stato fatto un taglio di leggings e mutanda insieme insomma te voglio violentare quindi te strappo tutto insomma e te lascio il liquido biologico allora aveva anche 13 anni c'è comunque una zona X lì cioè avere accesso a quella parte intima fondamentalmente quindi non ci doveva essere quel dna lì è logico che quindi poi si è parlato anche di movente sessuale qualcuno si stupisce dice però non c'è stata violenza innanzitutto poi qua dovremmo aprire un capitolo criminologico a parte perché la violenza sessuale dipende dalla propria fantasia cioè a volte può anche non concretizzarsi nell'atto sessuale stesso può sostituirsi con che ne so il controllo o alcuni non magari non è questo il stato cioè il caso sostituiscono l'arma con i propri genitali quindi veramente c'è un capitolo amplissimo da aprire non sarà questo ma poi il caso però è il momento sessuale l'unico perché che interesse poteva avere un uomo del genere su una ragazzina di 13 anni interesse economico non penso proprio ragazzi pensiamo un'altra cosa c'è nemico sul lavoro non penso proprio lì l'unico movente che c'è è quello di un'attrazione e pensiamo al dopo tu sei a processo rischi l'ergastolo quindi di non uscire più di non rivedere più la tua famiglia di non vedere crescere i tuoi figli di essere considerato un mostro per la metà del paese vogliamo perché la metà perché è veramente spaccato il paese e tu cosa fai? intrattieni una conversazione pistolare con una donna ne abbiamo pubblicate le lettere la vagina anzi sono conversazioni erotiche mi chiede di rasarsi la vagina esattamente come quelle che gli chiedono ma quindi e poi è successo davvero perché adesso me lo ricordo è stato un evento così lo so così traumatico che un rimasto me lo ricordo adesso ma scherziamo la gente si strappa i capelli perché bossetti poverino innocente e lui sta pensando a voi e scrive lettere otto con le donne che si c'erano chiedeva anche se fosse stata non avevo pubblicato la foto di lui che prendeva il sole nel cortile non lo so c'erano anche ma non adesso ragazzi ma non adesso dopo la ricassazione durante il processo c'erano anche questi dettagli andava a chiedere durante il processo si sono state lette in aule le lettere quando si stava decidendo della sua vita e la gente si strappava i capelli perché Gesuis bossetti lui scriveva a Gina di rasarsi la passera si può dire a quest'ora si sono le undici adesso non vuoi dire per dirla proprio cioè per dirla proprio diciamo rendetevi conto ragazzi cioè ragazzi questi si strappano i capelli no bossetti poverino gente cioè esce una notizia su bossetti e lì sotto è poverino hanno messo uno a caso la gente sente sente parlare di bossetti magari gli viene male dice poverino quest'uomo in carcere e lui che cosa fa prende il sole in carcere scrive lettere alla Gina gli chiede a Gina ma non è che solo Gina ce ne sono tante altre non è che c'è stata solo Gina immaginatevi un attimo anche la moglie fuori ok c'è poco da ridere purtroppo ragazzi ma non c'è da ridere su bossetti c'è da ridere sulla gente no i figli i poverini cioè c'è da ridere sulla gente che si strappa i capelli per una persona del genere che e che crea idea dell'essuto diciamo sta meglio dove sta ecco non è che sì sì e sulla Gina mi cercava proprio la ragazzina sì direi di chiudere perché abbiamo denominato anche proprio il quadro la disperazione e ve la chiudo così con una cosa che mi è rimasta impresse sul lavoro che ha fatto la Ruggeri mi ricordo un aneddoto no poi nella mia piccola breve esperienza da da criminalista mi ricordo questa aneddota che mi è rimasto impresso perché la Ruggeri disse e sapete perché sono convinta della colpevolezza di Bossetti perché quando ho beccato un innocente nella mia carriera la prima roba che mi dice quando arriva lì io sono innocente l'urla a gran forza e Bossetti lì per lì non l'ha fatto ha cercato subito di gettare fango tipo su altri questa cosa è vero che è un aneddoto soggettivo personale e quant'altro ma mi ha dato modo di pensare perché una serie di altre bugie che sono venute fuori di quella giornata ricostruendo ricordi mi hanno convinto che in realtà abbiamo un soggetto che non confesserà mai perché è una persona totalmente narcisista quindi solo pensare che qualcuno possa finalmente addossargli la responsabilità dell'atroce delitto che ha compiuto non lo farebbe più vivere cioè questo è Massimo Bossetti una persona che non confesserà mai perché non potrà mai ammettere di aver compiuto quel delitto e quindi resterà ma lo dici a tutti che è innocente ma per sempre tutte le persone che sono a contatto con lui quelli che diciamo le guardie carcerarie tutte le persone che l'hanno incontrata in carcere che magari conoscono per sommariamente la storia perché non se ne interessano figurati vivono dentro le carceri che ci lavorano lui non lo dirà mai a nessuno tutto fanno tranne che guardare la cronaca se parli con loro ti dicono ma no ma questo qua è innocente lui non lo dirà mai a nessuno non si confiderà mai perché lui non sopporterebbe il giudizio negativo di altre persone perché una persona così attenta a se stessa nell'esterno perché questa è l'unica cosa che l'indagine non ha chiarito no? se è stata una cosa premeditata come l'ha fatta salire sul furgone vabbè vi dico un aneddoto praticamente un po' di tempo prima che che si sapesse cioè che che iniziasse il processo mi dicono senti puoi andare a sentire delle persone nella via dove dove abitava lui quando era ragazzo perché sappiamo che lui una sera aveva una crisi non so e venne portato con l'ambulanza per una crisi epilettica in ospedale aveva 15 anni quindi pensate quanti anni erano passati vabbè io vado lì nella via dove lui abitava quando abitava con la famiglia da ragazzo in via delle rose a a brembate e nel palazzo dove abitava lui non abita più nessuno che abitava lì all'epoca quindi vado di fronte c'è una villetta con due vecchietti che hanno sempre abitato lì e suono e gli dico scusate ma voi conoscevate eccetera eccetera e loro mi dicono ah sì sì conoscevamo beh insomma c'era una situazione un po' così in famiglia la mamma insomma insomma sbarcava il lunario doveva aiutare la famiglia in qualche modo e insomma una sera neanche arrivato il papà e c'è stata una lite molto pesante proprio il marito che vabbè insomma era un po' così alticcio e minacciava la moglie la rincorreva per la casa c'era sto figlio che a un certo punto ha avuto sta crisi epilettica tant'è vero che l'ho aiutato io a metterlo sull'ambulanza mi ha detto questo signore e io dico ah ma non si ricorda quando è stato perché magari ricostruire questo fatto potrebbe non lo so a portare a capire se aveva delle turbe perché aveva avuto questi problemi familiari da bambino insomma non era proprio la famiglia del mulino bianco la sua ecco probabilmente non so magari il padre sapeva che non erano suoi questi figli non lo sappiamo è stato di fatto che poi non si è riusciti a provare questa cosa però questo elemento avrebbe potuto aiutarlo magari a chiedere magari una perizia di semi-infermità per capire che rapporto aveva lui con le donne no perché magari avendo avuto questa vicenda familiare questo rapporto con la madre un po' particolare può averlo portato a delle disfunzioni nei rapporti con le donne non con la moglie che era comunque la ragazza perfetta la brava ragazza che si era trovata nel paese quindi bella brava tutto quello che vuoi è bella anche troppo per lui però magari sai fuori cioè lì comunque i suoi colleghi di lavoro io li avevo intervistati mi avevano detto ah guarda quando andavamo a mangiare fuori tutti insieme lui si vedeva una giovane con la minigonna gli partiva l'embolo così mi hanno detto ma in tempi non sospetti cioè questo parliamo in fase di indagini ancora preliminare cioè indagini dopo che era stato arrestato perché le indagini sono continuate dopo che è stato arrestato e prima del processo perché le indagini non è che si fermano quando arresto una persona per cui diciamo degli elementi che avrebbero potuto costituire un appiglio interessante forse per la difesa c'erano ma non sono stati utilizzati è stata preferita questa idea che magari lei era stata inseminata artificialmente quando non esisteva ancora l'inseminazione artificiale artificiale va bene va bene ragazzi è stata una bellissima serata spero che se c'è qualcuno con dei dubbi li abbiamo tolti quelli che tanto sono convinti che è innocente grazie Marina e quelli che tanto sono convinti che Bussetti è innocente ci verranno a insultare su YouTube ma siamo pronti e quindi niente ci vediamo la settimana prossima non sapevo ancora il caso grazie come sempre stasera siete rimasti fino all'ultimo e e niente un abbraccio a tutti e buonanotte grazie ciao ciao ciao